La legge lei? Ok, prego. Riprendiamo i lavori, eh. All'articolo 10,3 capoverso, diritto di rifiuto e esclusione, aggiungere come quarto punto, dopo i subpunti, dopo la parola ambiente e la frase, i soggetti che non dichiarano di rispettare o comunque non rispettano i principi sanciti dallo Statuto del Comune di Sesto San Giovanni. Così, riformulato per la parte tecnica, il parere è favorevole. Consigliere Piano, l'Ebo si era prenotato per l'intervento, intende intervenire? Presidente, sì, ma posso evitare perché era un chiarimento sulla risoluzione 2003-16 del 13 agosto 2003 della Sottocommissione delle Nazioni Unite sulla promozione e protezione dei diritti umani, che era un tema che io non conoscevo, ma adesso ho consultato su internet in francese, ho capito di cosa si tratta, per cui riguarda sostanzialmente la protezione dei diritti dei lavoratori. No, ero preoccupato più che altro, lo dico a voi perché siccome sapete che nella nostra città investono i fondi immobiliari arabi sui principi universali delle Nazioni Unite, che sono ben più ampi, perché dove vige la Sharia non si riconoscono i principi universali delle Nazioni Unite, per cui potremmo avere un problema con i grossi centri che si affacciano nella nostra città e che provengono da quei paesi che sono soggetti a quella regolamentazione. Sappiatelo, eh. Ok. Ci sono altri interventi? Mettiamo in votazione. Prego, Consigliere. Grazie, Presidente. E su questo discorso, cioè, fatto poc'anzi dal Consigliere Perego, noto chiaramente una nota un po' stonata. E mi sembra chiaramente di ricordare che nelle vostre giunte di sinistra abbiate portato avanti chiaramente una specie di patentino dell'antifascista. Ecco, non facciamo rientrare in questo Consiglio Comunale un discorso chiaramente del genere. Già sancito nella Costituzione, effettivamente, porta chiaramente a riconoscere il discorso dell'antifascismo. Però non capisco come nella giunta chiaramente di Milano, quindi nel Consiglio di Milano e nel Consiglio di Cinisello, eh, questo vostro affermare in modo chiaramente così decisivo e quindi di riportare chiaramente a un ordine del giorno una tipologia del genere, ritengo che attraverso una questione tecnica e solamente tecnica, mi sembrava che noi dovevamo chiaramente fermarci lì. Per cui non condivido assolutamente da parte della Perego questa, questa sua intromissione in questo articolo. Grazie. Prego, signora. Prima l'ho esposto, adesso intervengo. Allora, io ringrazio il Segretario ovviamente per la proposta di soluzione tecnica. Io ho fatto un esempio dei principi contenuti nello Statuto del Comune, un esempio, noi li comprendiamo tutti. Stupisce che un consigliere comunale del Comune di Sesto non sia d'accordo su inserire il rispetto dei principi contenuti nello Statuto del Comune. Qui mi fermo, consigliere i minicelli. Bene, se ci sono altri interventi. Allora mettiamo in votazione. Apro la votazione. Chiudo la votazione. Consigliere Iosa. Contraria, grazie. Consigliere Leo. Favorevole Franciosi non c'è, quindi favorevoli sette, astenuti uno. Quindi con quindici voti contrari, sette favorevoli, un astenuto, emendamento e respinto. Passiamo alla delibera, all'emendamento, al punto sette. Sempre la parola alla consigliera Perego. Sì, lo illustro così come esercizio retorico perché mi pare di capire che qua non ci sia assolutamente esercizio del proprio ruolo, ma ci sia solo atto di fede indiscriminato nei confronti del sindaco. Ora, per l'emendamento che propongo per l'articolo 11, comma 14, scelta dello sponsor, chiedo di aggiungere, insieme, quando si parla di offerta valida, anche l'aggettivo congrua. Ovviamente il senso dell'emendamento è volto a preservare l'ipotesi di procedere alla giudicazione in caso di una sola offerta, purché congrua. Quindi c'è solo un'offerta, si può procedere lo stesso alla giudicazione, però senza l'elemento della soggettività. Ho saltato il terzo, va bene. Questo è già il risultato illustrato, per dopo così condensiamo i tempi. Per l'articolo 11,1 sulla scelta dello sponsor, dopo le parole e i contratti di sponsorizzazione chiediamo semplicemente di inserire una specifica come per gli accordi di collaborazione di cui agli articoli 6 e 21. Nella relazione, l'ho spiegato, l'emendamento è volto uniformare anche per l'accordo di collaborazione che il soggetto che stipula, la convenzione che regola l'accordo, deve essere ricercato con avviso pubblico e o manifestazione di interesse, nei quali si è evidenziato quello che richiede l'amministrazione pubblica. Sostanzialmente cosa si chiede? Si chiede di procedere con avviso pubblico, ovviamente anche di piccola entità. Grazie, consigliera Perego. Parere tecnico non favorevole. Lo avevo già spiegato, lo ripeto, in quanto nei contratti di sponsorizzazione l'accezione del termine è complessiva. Quindi non può essere solo, cioè come aggiunta, riferito accordi di collaborazione che ne è soltanto una parte. Quindi nella parola contratti di sponsorizzazione è già ricompreso anche l'accordo. Quindi la tutela viene comunque garantita nel termine principale. Grazie, segretario. Se non ci sono altri interventi, mettiamo in votazione. Apro la votazione. Chiudo la votazione. Consigliere Aiosa. Contrari, grazie. Consigliere Leo. Favorevole. Con voti contrari 15, favorevoli 8. Passiamo all'emendamento 8, presentato sempre dal PD. Consigliere, è già stato spiegato, lo vuole, no? Questo si riconduce agli emendamenti che aveva presentato il Consigliere di Cristo, quindi anche qui non è favorevole, perché congruità è già ricompreso e quindi non favorevole. Se non ci sono altri interventi, passiamo alla votazione dell'emendamento. Chiudo la votazione. Il mio voto è favorevole, è contrario, scusate. Consigliere Aiosa. Contrari, grazie. Consigliere Leo. Favorevole. 8, con 15 voti contrari, 8 favorevoli, emendamento respinto. Passiamo all'emendamento 9, sempre la parola alla Consigliera Perego. Prego, Consigliera. Sì, la premessa rispetto a questo emendamento è che sappiamo benissimo che la soglia dei 40 mila euro per la scelta dello sponsor è una soglia assolutamente consentita dal Codice degli Appalti che prevede che per gli affidamenti sotto i 40 mila euro non si debba procedere di fatto ad avviso pubblico. Riteniamo però che sia in realtà una scelta politica invece quella di chiedere di abbassare la soglia perché ovviamente una sponsorizzazione di 40 mila euro non è cosa da poco. Cioè davvero l'auspicio è che si trovino dei soggetti che intendano investire 40 mila euro nelle sponsorizzazioni per l'amministrazione comunale. Noi crediamo che sotto una cifra così importante ci siano interventi molto grossi e quindi è anche di ritorno poi allo stesso sponsor. Detto questo chiediamo anche in conformità con altri enti, faccio un riferimento alle istituzioni scolastiche che per procedere ad affidamenti hanno come soglia i 3 mila euro, chiediamo per scelta politica, so benissimo che dal punto di vista tecnico c'è quella soglia ma nulla vieta in un regolamento di abbassarla, cioè migliorativo non trasgredisce quella legge, il senso è perché appunto si vuole ridurre a una soglia più ragionevole, più trasparente e di garanzia per l'ente la soglia oltre la quale diventa obbligatoria la procedura comparativa, non un bando di gara ma almeno una procedura comparativa in analogia in quanto già in vigore in altri enti. Grazie consigliere Apperego, do la parola al consigliere Piano. Grazie Presidente, io intervengo su questo emendamento, ho sottoscritto tutti gli emendamenti del Partito Democratico salvo questo che non mi trova d'accordo perché ritengo che già si faccia fatica a trovare gli sponsor, cioè l'assessore, la giunta, l'amministrazione dovrà fare uno sforzo rilevante. Ipotizzare di mettere un limite di questo tipo significa ingessare la macchina, è un processo che in realtà ha bisogno di essere snellito. C'è una soglia di legge che dal mio punto di vista è ragionevole, quella dei 40 mila, poi dipende dai settori perché in alcuni settori forse andrebbe addirittura alzata per velocizzare i processi perché non è neanche più attuale. Per quanto riguarda le sponsorizzazioni, poi se ci riferiamo alle forniture oppure a qualche piccolo ammodernamento sugli immobili, io credo che con 3 mila euro faremmo addirittura fatica a dipingere le pareti di una palestra. Per cui ritengo che su questo io mi possa ragionevolmente esprimere il mio voto contrario proprio per andare nella direzione di una semplificazione, di una fluidificazione di questi processi che devono essere accompagnati con la dovuta celerità. Grazie consigliere Piano. Se non ci sono altri interventi, bene, do la parola al segretario. Tecnicamente era già implicito che non è abbassabile la soglia, quindi lei si è appellato alla parte politica, non tecnica in questo caso. Bene, mettiamo in votazione. Apro la votazione. Speriamo. Chiudo la votazione. Consigliere Aiosa. Contrari, grazie. Consigliere Leo. Favorevole. Con 18 voti contrari e 5 favorevoli, l'emendamento è respinto. Grazie. Passiamo all'emendamento numero 10. Ho la parola alla consigliera Perego. Scusi, inizio a aver sonno, non ho capito che mi ha dato la parola. Allora, sulle figure dello sponsor e del collaboratore istituzionale, in merito a chi può essere ammesso, noi si fa riferimento ovviamente al fatto che non possano essere ammessi partiti o gruppi politici, aggiungeremo all'articolo 13,1 in tema di associazioni che sono ammissibili associazioni che non siano esplicitamente, quando va aggiunto l'avverbio esplicitamente, riconducibili a partiti o gruppi politici. Faccio un esempio. Se si costituisce l'associazione Partito Democratico con stesso nome, stesso simbolo, evidentemente crediamo opportuno che questa associazione non debba essere ammessa perché vale quello che si dice per i partiti politici. Grazie, consigliera Perego. Do la parola al segretario generale Mario Giamarrosti. Parere tecnico complesso, non favorevole, in quanto, mentre, per quel che riguarda la formulazione espressamente prevista dalla lettera C dell'articolo 13, ove il contrasto, cioè ove le finalità statutari risultino in contrasto con i fini istituzionali, è un dato misurabile, in quanto lo stesso è esplicitato all'interno degli statuti. Invece una allocuzione generica che sia e che non siano esplicitamente riconducibili da partiti o gruppi politici ingesserebbe, uso il termine, proprio l'attività degli uffici che avrebbero una totale discrezionalità nel considerare questo o quella associazione riconducibile. Cioè la parola riconducibile non essendo misurabile, quindi o il tecnico che poi deve procedere, non procede o se procede ne fa una scelta personale. Quindi per me, non essendo misurabile, lo ritengo, cioè per me è non favorevole. Grazie, Segretario. Se non ci sono altri interventi mettiamo in votazione. Consigliere Piano? Sì, grazie, Presidente. Ma io devo dire che mi trovo d'accordo invece per evitare, come dire, che delle associazioni facoltose possano acquisire degli spazi pubblici e fare una propaganda che può alterare la par condicio. Per cui io ho sottoscritto questo emendamento semplicemente per preservare. Lo dico peraltro perché io sono espressione non di un partito, di un gruppo politico, ma di un'associazione che accoglie persone, diciamo, che hanno una diversa provenienza. E quindi con la mia associazione domani mattina sarei legittimato ad adottare un'aiuola. Non ho la possibilità di farlo. La riflessione più generale che però possiamo fare dal punto di vista politico è che dobbiamo constatare che ad oggi partiti che abbiano offerto risorse alle amministrazioni comunali non li abbiamo visti, ma semmai il contrario. Grazie, Consigliere Piano. Se non ci sono altri interventi mettiamo in votazione l'emendamento. Scusate, apro la votazione. Chiudo la votazione. Consigliere Ariosa. Contraria, grazie. Consigliere Leo. Favorevole. 15 voti contrari, 8 favorevoli. L'emendamento è respinto. Bene, allora procediamo alla dichiarazione di voto della delibera. Pista popolare per sesto, Piano Alessandro. Grazie, Presidente. Data l'ora non occuperò tutti i cinque minuti, anche se non sono intervenuto nel dibattito generale, però ringrazio l'assessore Torresani per il lavoro che ha fatto e per questo primo elemento amministrativo del suo assessorato che ha posto alla nostra attenzione è che va in una direzione nuova, ancorché già adottata da altri comuni. Certamente sappiamo tutti che c'è una complessità delle amministrazioni nel reperire risorse anche per effetto dei tagli e quindi ogni sforzo che può andare nella direzione di raccogliere fondi è assolutamente gradito e poi io la leggo anche come un'apertura favorevole al mercato. Quindi mi piace molto questa cosa di un comune che, come rappresentava anche la consigliera Di Pietro, si apre verso l'esterno e accoglie un mondo delle imprese con il quale può collaborare proprio per finalità di interesse pubblico. Un solo appunto mi sarei aspettato dall'assessore Torresani, ma poi magari avremo occasione di ritornarci sopra nei prossimi consigli, che questo regolamento si inquadrasse in una linea strategica di questo ruolo estremamente difficile che si è assunto per la città, ovvero da consigliere comunale avrei preferito discutere prima delle linee di indirizzo che non hanno trovato un recepimento nel lato che è stato presentato dal sindaco al suo insediamento, ma che sono rimaste un po' sotto traccia. A dire il vero non sono pervenute. Quindi il primo atto amministrativo concreto è questo, ma poi dovremmo trovare delle modalità, dei momenti di confronto, un po' come abbiamo fatto l'altra sera con l'assessore Titta Ferrante che è venuta in commissione, ha illustrato, sia pure trovando la mia contrarietà, le sue linee programmatiche, però almeno sappiamo qual è il suo intendimento, o meglio il vostro intendimento per il futuro sulle politiche educative. Devo dire che quella sera non ho dormito benissimo, pensando i cittadini se stessi, però avremo occasione di ritornarci. La stessa cosa però la tendiamo da lei, nel senso che sarebbe opportuno incardinare questi percorsi amministrativi all'interno di una linea strategica, in modo tale che poi possiamo inquadrare le singole azioni. So che non è facile, ma è uno sforzo che le chiediamo e troveremo probabilmente dei momenti di confronto anche in sede di commissione di controllo, dove la inviteremo a raccontarci che cosa intende fare per attrarre investimenti nella nostra città. Il mio voto sarà favorevole. Insieme con Monica Chittò, consigliera di Pietro Stefania. Mi chiedo scusa se mi sono assentato un attimo. Questa volta perdonato. Io mi sono già espressa prima durante l'intervento, quindi ribadisco il voto favorevole del gruppo che rappresento. Solo un ramarico, devo dirlo, perché gli emendamenti che sono stati proposti questa sera credo che avrebbero migliorato. Adesso io prendo atto del parere tecnico, ovviamente, del segretario, però dal punto di vista politico credo che non avrebbero poi portato una negatività alla delibera proposta questa sera. Mi spiace avere notato una mancanza di disponibilità da parte della maggioranza, soprattutto anche per l'emendamento che richiamava i principi del nostro Statuto. Non ho capito sinceramente il perché del voto contrario e di fronte alla risposta nostra di votare a favore riconoscendo la valizzata di una delibera. Mi sarebbe piaciuto anche che la maggioranza accogliesse almeno alcuni degli emendamenti proposti questa sera. Comunque ribadisco il voto favorevole. Grazie consigliera Di Pietro. Do la parola a Cittadini di Sesto. Consigliera Aiosa Alessandra. Grazie Presidente. Con molto favore diamo il nostro voto favorevole come lista dei cittadini di Sesto a questa delibera che decisamente apre un capitolo nuovo, una nuova possibilità e una nuova visione di collaborazione tra pubblico e privato. Sicuramente normata e a tutela dell'ente ma iniziamo ad aprire gli orizzonti e aumentare le possibilità che comunque potremo avere. La ricerca di risorse autonome per sviluppare nuovi programmi e favorire percorsi di innovazione previsti all'interno dell'amministrazione nonché la volontà di voler realizzare una maggiore qualità dei servizi istituzionali ha posto il problema in questo ultimo periodo di creare sinergie tra pubblico e privato. La visibilità di una pubblica amministrazione è sempre ampia e riteniamo che si presti per sua natura a diffondere una svariata gamma di messaggi. Il beneficio e la ricaduta è sicuramente duplice. Per l'ente aumenta il numero e la qualità dei servizi e delle migliorie che può fare all'interno della sua struttura e migliora sicuramente anche la percezione che i cittadini possono avere dell'ente stesso. Per l'impresa e per chi comunque si affaccerà a questo nuovo percorso rende sicuramente più efficaci i propri interventi di marketing, migliora la propria percezione da parte del pubblico e può essere un modo per promuovere i propri principi e quello che l'azienda stessa ritiene fondamentale nel suo essere. Crediamo che questa percezione, la percezione del privato unita alla percezione che il cittadino potrà avere della pubblica amministrazione possa essere migliorativa e estendere comunque i confini di quello che andremo a fare. Grazie. Grazie a lei, consigliera Iosa. Do la parola al Movimento 5 Stelle, consigliere Di Cristo. Sì, grazie Presidente. Sarò brevissimo, vista anche l'ora tarda. Ma noi voteremo a favore di questa delibera perché comunque siamo a favore della sponsorizzazione, della sponsorizzazione in generale degli interventi del privato, soprattutto quando si tratta in termini di risorse, di copartecipazione in quelli che sono gli interventi pubblici. Tra le altre cose abbiamo avuto già in passato, non è nuova la forma della sponsorizzazione agli enti pubblici, anzi più che altro è una cosa ancora oggi purtroppo ancora poco diffusa. Io ricordo degli albori, ricordo degli esempi anni fa, fu uno dei primi esempi di sponsorizzazione, per esempio ancora non si parlava, ancora la disciplina non era normata, quando si parlava del ex idroscalo, quando si fece avanti la fila e cambiò volto con un ingente investimento al permiso e recupero di quell'area di Milano. È ovvio che quando questi investimenti di privati sono ben normati, ben delimitati, ci sono delle progettualità alla base, non possono che far bene al pubblico e a quelli che sono i servizi da offrire al pubblico. Questo testo ci sembra ben articolato e omogeneo con le sue finalità. Certo, avremmo preferito che qualche emendamento proposto questa sera in più fosse passato perché era atteso proprio a miglioramento del testo licenziato in quest'Aula. Così non è stato, ma non possiamo che esprimere un giudizio favorevole nell'ottica appunto dell'intervento del privato a favore del pubblico. Quindi il nostro voto sarà, ripeto, favorevole. Grazie, consigliere Di Cristo. Lista di Stefano Sindaco, Attanasio Tullio. Grazie, Presidente. Beh, che devo dire, tardi. Va bene. E finalmente il Comune si dota di uno strumento nuovo attraverso la quale sarà possibile attivare il programma di governo relativamente agli interventi finanziari da parte dei privati a favore della collettività. Il regolamento presentato è certo un progresso rispetto a un deludente passato e penso sarà uno dei motori di una grande passione che unirà tutti per dare il meglio alla nostra città. Per questo il mio voto è favorevole. Grazie. Grazie a lei. Lista Caponi Sindaco, Consigliere Pogliaghi. Grazie, Presidente. Devo dire che siamo davvero soddisfatti di questa delibera che rappresenta una novità per sesto. È un primo passo, come si è detto e ripetuto dagli altri consiglieri, verso la valorizzazione del nostro bene comune, molto spesso degradato e abbandonato. Certamente occorre una progettualità, come citato, e una vigilanza sull'operato e sulle attribuzioni. Ma sono certo che sia un passo avanti coraggioso. Una sola nota rispetto alla bocciatura degli emendamenti che non è stato un voler ostacolare un percorso, ma le motivazioni sono state legate al cercare di rendere, di lasciare un meccanismo fluido già ben articolato, già ben strutturato, per poter andare avanti in questo percorso di sviluppo. Il nostro parere è favorevole. Grazie. Grazie, consigliere Pogliaghi. Dò la parola alla Lega Nord, consigliere Pasquinelli. Grazie, Presidente. Per quanto ci riguarda, riteniamo che il regolamento che stiamo andando ad adottare, norma e discipline in modo chiaro e preciso, tutto ciò che riguarda la gestione delle sponsorizzazioni, degli accordi di collaborazione e erogazioni liberali. Questo regolamento, finalizzato al reperimento di risorse economiche, lo riteniamo esaustivo e a garanzia del rapporto tra l'amministrazione e le parti interessate a instaurare un rapporto con l'amministrazione stessa. Il gruppo Lega Nord vota a favore. Grazie. Grazie a lei, consigliere Pasquinelli. Do la parola a Forza Italia, Rosa Vittoria. Grazie, Presidente. Favorevoli. Partito Democratico, consigliera Perego. Grazie, Presidente. Allora, come ho avuto modo di dire, ovviamente, a nome del gruppo consigliere del Partito Democratico, si tratta di un buon regolamento, quindi dal nostro punto di vista è stato fatto un buon lavoro. Noi avevamo intenzione di votare a favore di questo regolamento, però la scelta di respingere, a volte anche in modo assolutamente pregiudiziale, con motivazioni talvolta risibili, talvolta anche estremamente discutibili dal punto di vista politico, non ci può permettere di votare favorevolmente. Lo dico a malincuore, perché il lavoro che le riconosciamo, e riconosciamo su questo regolamento, è grosso. Però il fatto che siano stati respinti e in questo modo così pregiudiziale, comporterà la nostra stensione. Sesto nel cuore, consigliere Valsecchi. Buonasera, Presidente, consiglieri. Già precedentemente, nella discussione generale, a nome della lista civica Sesto nel cuore, avevamo valorizzato positivamente il lavoro dell'assessore Torresani, per questa novità introdotta finalmente dalla possibilità di privati di poter intervenire nel miglioramento di quello che è la nostra città. Soprattutto in questo periodo dove si è ereditato un bilancio che non consente la possibilità di fare e mettere in opere tutte le idee che ha in questo momento l'amministrazione. Mi limito quindi solamente ad esprimere l'espressione di voto da parte degli stessi Sesto nel cuore, che è favorevole a questa delibera. Grazie. Grazie, consiglieri. Passiamo alla votazione della delibera. Apro la votazione. Chiudo la votazione. Consigliera Iosa. Grazie, Presidente. Il nostro voto è favorevole. Leo. Astenuto. Grazie, consiglieri. 18 voti favorevoli e 5 astenuti. Il Consiglio approva. Passiamo adesso alla delibera di Consiglio al punto 30. Approvazione dell'atto tra il Comune di Sesto San Giovanni e Aler Milano. Presidente, scusi, sull'ordine dei lavori, giusto per capire, perché la 1-20 si tratta di due delibere che credo richiedano ovviamente una discussione complessa e prevedo, visto che sul regolamento delle sponsorizzazioni abbiamo impiegato due ore di discussione, se iniziamo adesso, comunque anche solo quella di Aler, quell'altra, non so, domani. Ormai la mezzanotte l'abbiamo passata. Quindi vuol dire che concludiamo il Consiglio fino alle 5 di domani mattina? Io prevedo due ore per discussione di delibera, Presidente, sono delibere complesse. Cioè, non so lei, credo abbiamo tutti un lavoro, domani mattina dovrebbe essere. Ho chiesto anche prima qualche parere, mi hanno detto andiamo avanti, anche con consiglieri di Cristo. No, a noi non è stato chiesto come Partito Democratico. La mezzanotte è passata, io andrei avanti a questo punto. Però allora non viene più riconvocato domani il Consiglio. No, certo, certo, andiamo avanti fino alla fine. Siamo avanti fino alle 5 di mattina. Stavo dicendo approvazione... Però è stato convocato in due giornate. La seconda giornata lei lo sa meglio di me, lo mettiamo sempre per eventualmente. ci siamo dilungati, ma abbiamo anche un po'... Tra l'altro devolviamo anche il gettone, non lo intaschiamo nemmeno noi. Cioè, quindi voglio dire... Va bene, procediamo allora. Rimaniamo qua e faremo colazione insieme domani mattina. Va bene, va bene. Ci sto. Allora, andiamo alla delibera al punto 30. Stavo leggendo approvazione dell'atto tra il Comune di Sesso San Giovanni e Alermilano. Do la parola al relatore di Commissione, Consigliere Pogliaghi. Prego, Consigliere. Grazie. Vista l'ora tarda cercherò di rendere breve una illustrazione piuttosto articolata circa la delibera di approvazione dell'atto fra il Comune di Sesso San Giovanni e Alermilano regolante la concessione in uso di una porzione dell'immobile di proprietà comunale sito in via Puricelli Guerra 24, identificato nella mappa catastrale del Comune, foglio 23, mappale 146. Allora, innanzitutto è stato relazionato dall'assessore lo stato della villa. La villa che noi conosciamo molto bene, perché è una delle ville più antiche di Sesto, che ha un passato storico, passato di mano a illustri personaggi e poi venendo nel breve al Comune di Sesto San Giovanni del 1970. È stata restaurata l'ultima volta nel 1995 e ad oggi lo stato di fatto è che è parzialmente utilizzata e alcune sale, le più belle, sono inagibili. Per quanto riguarda le superfici, abbiamo circa 1250 metri quadri distribuiti in 700 metri quadri e destinati uffici più altri 552 metri quadri, che ad oggi sono assolutamente male utilizzati o inutilizzabili. Quindi la delibera è stata illustrata che è stata volta a massimizzare sostanzialmente sia la funzionalità sia la gestione economica, in quanto da un punto di vista funzionale ci sono distribuiti alcuni uffici comunali che possono essere reintegrati nell'edificio comunale qua presente di piazza Resistenza e d'altra parte altri uffici in cui si sta trovando locazione via Benedetto Croce. Da un punto di vista economico, la villa ad oggi ci costa comunque circa 40.000 euro all'anno di costi di esercizio. La delibera da questo punto di vista riporta correttamente l'atto di concessione verso ALER quindi una scelta verso un'azienda che ha la possibilità di ottimizzare l'utilizzo di questi spazi ma oltre che fare questo, renderci un canone evidentemente di affitto, oltre che questo darci anche in concessione concederci dei lavori per 250.000 euro da eseguirsi in due anni. Quindi la possibilità di rimettere in ordine le zone, le sale inagibili e quindi destinarne una parte ai loro uffici e un'altra parte successiva restituirla alla cittadinanza per usi culturali per esempio. Quindi restituire sia la sala delle vetrate per farne esposizioni sia una numerosità pari a 30 giornate nella sala del camino. Questo con un ingresso autonomo, quindi sdoppiando l'ingresso in parte da un lato per gli uffici di ALER e dall'altra parte indipendente per la gestione, la concessione al comune e alla cittadinanza. Allora, è stato illustrato da ultimo che è stata una interazione forte con ALER abbastanza complessa legato alle condizioni perché si è parlato di un canone di 57.000 euro all'anno erogati a inizio anno, quindi poi utilizzabili su un contratto di 18 anni più i lavori più sostanzialmente una fideiussione che è una cosa che normalmente non viene fra enti pubblici ma proprio per una tutela e una garanzia. Durante la commissione sono stati fatti alcuni interventi proprio sulla scelta, sulla tipologia di scelta quindi innanzitutto dalla consigliera Perego proprio perché la scelta di questi spazi e perché lasciare i precedenti spazi e cosa avverrà della zona lasciata libera a questo sono state date subito risposte legate proprio all'utilizzo nel senso che ALER collocherà 50 funzionari più un dirigente che gli spazi precedenti non erano più adeguati non era abbastanza attualmente contengono 15 persone e possono arrivare ad accettare fino a 40 persone e poi si è colta l'occasione per illustrare il fatto che portare ALER in una zona adiacente al comune aveva una funzionalità molto importante perché? Perché ALER qua in Villa Policeli di Guerra realizzerebbe una unità operativa gestionale ovvero sia una unità sovracomunale in cui erogare servizi per il comune di Sesto e per il comune di Cologno e in questa unità operativa gestionale supportare soprattutto i cittadini nell'illustrare e nel gestire tutte le pratiche per i bandi di assegnazione di case pubbliche questo ha un duplice vantaggio per noi che sostanzialmente una grossa parte delle persone che poi vengono anche presso il comune a chiedere informazioni sulle case ALER possono facilmente arrivare nella sede di ALER e avere le risposte che devono avere poi sono stati ancora brevemente fatti alcuni interventi dal consigliere Piano circa una preoccupazione rispetto all'assolidibilità di ALER e su questo c'è stata la risposta rispetto alla fidegissione e rispetto all'impatto ambientale quindi in questo caso è stato garantito che si faranno degli interventi anche adiacenti proprio per rendere fruibile questa villa proprio come accesso come parcheggi come accesso disabili e tutto quanto necessario per permettere di abbattere il barriere dopodiché è stato sono state illustrate inoltre alcune informazioni relativamente ai canoni indicando che attraverso tabelle comparative sono stati valutati che il canone di 57.000 euro è il canone corretto per gli spazi che vengono concessi e per la restituzione che viene data tutto questo sostanzialmente in una discussione che ha portato a un progetto di un certo successo anche in termini di valore che ne porta per la città nel senso non solo tanto la restituzione ai cittadini e la possibilità di riutilizzare un bene che oggi è bloccato e fermo e non si hanno i soldi per risistemare ma anche proprio un valore indotto rispetto alle persone che possono girare attorno a questa unità organizzativa grazie grazie a lei consigliere do la parola all'assessore D'Amico prego assessore buonasera a tutti io mi scuso se in apertura di consiglio comunale non ero presente ma oggi è un consiglio straordinario che non era previsto avevo già un impegno fuori città ma sono poi arrivato in tempo ma mi voglio associare al cordoglio di tutto il consiglio per la scomparsa del consigliere rivolta che in passato ha avuto anche la responsabilità proprio di questo settore del patrimonio dopo quello che ha detto il relatore dopo la seduta di commissione io quello che posso aggiungere vista anche l'ora sarà un limitare l'intervento senza ripetere cose che ci siamo già detti sia in commissione sia soprattutto questa sera con il relatore però bisogna che capiamo e almeno spieghiamo in quest'aula che nel settore del patrimonio questa sera portiamo un atto importante perché sta a testimoniare che il nostro obiettivo che è quello di trasformare i tanti segni meno che noi ci siamo trovati nei bilanci dell'ente sotto la gestione del patrimonio insegni più e questo è un caso eloquente perché la gestione di questo bene di questa struttura che è una struttura che è importante perché è nel centro del paese nel centro della città è una struttura che nei nostri bilanci continuava a gravare con un grosso segno meno come ci ha detto il relatore il segno meno attuale è di 40.173 euro perché questo è quello che ci costa tenere aperta quella struttura e usarla a noi e quindi come fare a trasformare un segno meno in un segno più ma non solo un segno meno economico anche un segno meno nell'utilizzo da parte dei cittadini di quella struttura perché adesso noi non avremmo le disponibilità economiche per ristrutturarla e per rendere agibili quelle sale come la sala del camino che sono inagibili e che quindi non vengono assolutamente usate dai cittadini di Sesto San Giovanni quindi noi ci siamo trovati un bene che è poco utilizzato dai cittadini veniva usato con alcuni uffici senza neanche averlo riempito tutto e questi uffici abbiamo ritenuto molto semplice potervi ricollocare in altre zone come il palazzo questa grossa torre liberando così una struttura che può essere messa a reddito salvaguardando però l'interesse pubblico e quindi salvaguardando l'utilizzo per tutti i cittadini di quella sala che normalmente viene usata per delle mostre e addirittura riportando senza costi per lente ad essere utilizzata per almeno 30 giornate all'anno la sala del camino che è la sala più bella con le travi in legno che adesso sono pericolanti e rischiano di cadere sulla testa degli eventuali utilizzatori ecco con questo accordo noi risolviamo sia il problema economico perché questa struttura non sarà più un segno meno di 40.000 euro ma addirittura diventa un segno più di 57.000 quindi c'è un differenziale di quasi 100.000 euro a favore dell'ente e in più la parte pubblica la parte di uso per tutti i cittadini per iniziative che non sono solo legate a quello che farà Aler e quindi mostre o quello che si vuole è salvaguardato ma di più il fatto che Aler rimanga sul nostro territorio in questo momento di apertura di questa unità operativa territoriale operativa gestionale che è un qualcosa di nuovo per Aler e che sarà una una struttura importantissima per Aler perché andrà a gestire più di 13.000 alloggi aver chiuso un accordo con Aler che ci chiarisce che Aler rimarrà a Sesto San Giovanni e non si trasferirà perché pensate che questa unità gestirà tutto il nord est Milano tutti gli alloggi non solo di Sesto ma di una grandissima area come ho detto noi ne abbiamo circa 1.500 di alloggi Aler a Sesto San Giovanni ma da lì verranno gestiti più di 13.000 alloggi con un indotto quindi enorme perché pensate che noi porteremo nel centro di Sesto e quindi capite che quando la gente viene in centro poi ti porta l'indotto perché si ferma dal negoziante perché porta un valore aggiunto alla nostra città lo porteremo nel nostro centro un indotto di un bacino di utenza così grande perché Sesto è stata grazie a questo accordo individuata come la sede dell'unità operativa gestionale non solo Aler è un ente pubblico in base alla legge anche se qualcuno avrà dei dubbi ma lo è e noi facciamo sì che un ente pubblico abbia un esborso per un affitto ad un altro ente quindi aiuti un altro ente e non lo dia a un privato facendo solo un interesse privato che ha come adesso il privato nell'affittare ad Aler una struttura e incassare un affitto ecco in questo modo portiamo anche che è una finalità di supporto a un'amministrazione Aler quindi uniamo le due cose in più in base alla nuova legge regionale sull'assegnazione degli alloggi vi è una grande collaborazione nello stessa predisposizione e gestione dei bandi dei nuovi bandi tra l'amministrazione comunale e l'amministrazione Aler perché a differenza di quello che avveniva prima quando veniva fatta una graduatoria del comune e poi gli alloggi venivano assegnati sia alloggio Aler sia alloggio ERP di proprietà del comune in base a questa graduatoria ma tutto veniva gestito dal comune la graduatoria veniva gestita direttamente dal comune con la nuova legge il bando viene gestito sia dal comune sia da Aler quindi i nostri uffici saranno insieme a quelli di Aler in collaborazione nel recepire le richieste il nostro personale come l'ha fatto perché siamo stati devo dire siamo stati in grado di essere scelti come sperimentazione di questa nuova legge ma non mi dilungo perché non è questo l'argomento della serata ma abbiamo fatto un lavoro sinergico con Aler e il problema in questo in questo bando è stato che quella sede di Aler non si è rilevata adatta a ricevere i cittadini tant'è che il 90% del lavoro delle iscrizioni dei cittadini al bando è stato fatto nei nostri uffici non in quelli di Aler quindi portando Aler nel centro città a una brevissima distanza dai nostri uffici della casa sarà possibile davvero fare una collaborazione nei momenti di apertura dei bandi e dividersi il lavoro che dovrà essere fatto congiuntamente questi sono tutti elementi importanti che ci hanno fatto scegliere per portare avanti questo accordo e sono elementi che noi abbiamo fatto valere con Aler perché Aler poteva come ho detto scegliere di andare in uno dei tanti comuni che verranno poi seguiti da questa struttura e ce ne sono tanti di grandi ma saranno qui quindi io sono molto soddisfatto di questo sono molto soddisfatto perché portiamo a reddito una struttura sono molto soddisfatto perché i nostri cittadini non perderanno l'utilizzo di quella struttura per eventi anche culturali o di qualsiasi tipo e quindi vi porto in discussione in approvazione questo progetto di delibera e mi riservo ovviamente di rispondere alle eventuali domande e richieste che saranno fatte dai consiglieri sia di maggioranza che di opposizione grazie assessore apro la discussione consigliere piano prego grazie grazie presidente cercherò di stare nei dieci minuti non ho chiesto il raddoppio visto l'ora tarda io ho partecipato ai lavori in commissione ringrazio il consigliere D'amico anche per la ricostruzione l'assessore chiedo scusa anche per la ricostruzione storica che ha fatto della villa Purricelli guerra che è stata estremamente puntuale e che certamente ha arricchito le mie conoscenze devo dire che no vista l'ora la ringrazio sì no certo devo dire che rispetto al tema che ci occupa stasera mi sarei aspettato anche una ricostruzione storica delle vicende finanziarie che interessano il nostro contraente perché insomma non stiamo parlando di poca cosa è notizia di questi giorni che Aller Milano è stato presentato un esposto credo proprio nei primi giorni di questo mese anche da da un comitato importante di inquilini perché sarebbero necessari circa un miliardo e 264 milioni per sistemare il patrimonio edilizio sappiamo tutti poi che il bilancio dell'Aller l'abbiamo anche commentato in commissione è un bilancio estremamente critico e che quindi il nostro interlocutore da un punto di vista finanziario non è mi permetto di dirlo particolarmente affidabile questo è un dato che dobbiamo vedere poi l'assessore D'Amico devo dire da questo punto di vista ha cercato di rassicurarci dicendoci che comunque l'Aller non potrà mai diciamo subire delle conseguenze nefaste perché alle spalle c'è la regione ma comunque ci sono sempre i contribuenti è un ente che è stato occupato negli ultimi vent'anni dalla politica adesso è arrivato un nuovo amministratore da Como che forse lei assessore conoscerà perché credo che abbia una matrice padana come origine politica che è andata a governare l'Aller mi piace pensare che voi facciate sistema con la regione Lombardia perché avete evidentemente delle relazioni privilegiate che possono avere una ricaduta nella nostra città ma avrei preferito che si attivassero altri canali per dare delle funzioni di qualità alla villa e mi spiego noi abbiamo un tema io ogni tanto faccio attività di lobbying programmatica vado nell'ufficio del sindaco prendo appuntamento siccome è un programma che ho proposto agli elettori ci sono dei temi che mi stanno particolarmente a cuore vado e gli rompo le scatole sulla vendita delle società partecipate sulla pedonalizzazione mi sono permesso qualche giorno fa di trasferire un documento e devo dire che la villa per me rappresenta una occasione persa per inserire delle funzioni di qualità al di là degli aspetti viabilistici dell'impatto dell'incognita circa la possibilità di restaurare effettivamente in tempi certi quella villa su cui sappiamo che non esiste neanche una fiduzione a garanzia dei lavori ma a garanzia del canone l'idea era quella magari di attivare un canale che so dico una cosa che magari non è realizzabile però con la triennale per portare qui una funzione culturale e allora io penso al circuito delle ville perché il tema della pedonalizzazione è un tema che mi sta particolarmente a cuore anche perché nel nostro piano regolatore originario c'era questa visione stiamo parlando del 1962 le do un dato storico perché nuovo magari perché mentre a Rotterdam si realizzava la prima isola pedonale noi avevamo l'architetto Bottoni che lavorava l'anello verde del circuito delle quattro ville storiche questo è un tema che rientra nella visione che dobbiamo avere per restituire ai cittadini una qualità urbana che non può essere data soltanto da una funzione di servizio a me piace molto il discorso della razionalizzazione dei costi cioè il fatto di liberare la villa e di concentrare le funzioni amministrative altrove è una cosa che mi trovo assolutamente d'accordo però secondo me è stata concepita in modo ragionieristico perché traslochiamo una funzione che è una funzione pubblica dove realizzeremo un ufficio al servizio del cittadino ma perdiamo quella opportunità di costruire un disegno abbiamo la villa Purricelli Guerra abbiamo la villa di Viadante abbiamo la villa Zorro su cui bisognerà fare un ragionamento un ragionamento serio insomma queste ville potevano in qualche modo trovare abbiamo la villa Milius che è un altro problema che ci troveremo ad affrontare perché prima o poi quel contratto scadrà e io spero che anche quella possa essere davvero possa diventare un luogo vitale e aperto ai cittadini ecco questo anello che è concepito e che si può leggere in quell'atto poteva essere diciamo il presupposto per costruire un centro storico che non abbiamo anche adottando dei percorsi partecipati noi con la precedente amministrazione la precedente amministrazione ha vinto un bando di recente non so se ne siete a conoscenza che si chiama la lunga estate fresca e che riguarda le comunità cosiddette resilienti cioè il fatto di poter portare delle isole di refrigerio all'interno anche del centro storico nella città per contrastare i fenomeni climatici che possono interessare d'estate e gli anziani dentro quel progetto e ne abbiamo discusso quando abbiamo fatto il piano di azione per l'energia sostenibile era contemplato anche la possibilità di dare addio a questo percorso partecipato che deve prevedere certamente la condivisione da parte dei cittadini per cui non è che il centro storico noi lo chiudiamo e lo facciamo da oggi al domani interventi che dovranno essere realizzati per parti e in progressione e da ultimo la possibilità di dare all'isola pedonale anche una vocazione innovativa noi l'avevamo raccontato come l'isola 2.0 l'isola 3.0 però creare davvero un sistema che rappresentasse anche una risposta a quelle tante persone che si chiudono in questi centri commerciali tristi perché la nostra città non ha un'identità noi dobbiamo portare fuori un po' di vita far rivivere il commercio ma anche ragionare con una logica diciamo che incontri la bellezza perché questa città ha bisogno anche di questo ecco io credo che la scelta di Ale al di là di quelle che sono i ragionamenti di tenuta finanziaria dell'ente rappresenti una scelta infelice e un'occasione persa per rimettere a sistema e riprendere riaggiornandolo quel progetto del 1962 che ha ancora un suo fascino e un'attrattività che potrebbe rappresentare una risposta che i cittadini se stesi si attendono perché il tema della pedonalizzazione è un tema che riguarda la qualità ambientale è un tema che riguarda la qualità della vita è un tema che riguarda la qualità dei commerci e per cui è necessario coinvolgere anche quelle associazioni di categorie che sembrano essere critiche ma che in realtà sono disponibili a ragionare su un progetto che abbia dei presupposti anche per il consumo e che possa finalmente dare a questa città un'identità che non ha anche perché abbiamo tutto il tema della città costruita che deve essere affrontato rispetto alla città che verrà che è il tema delle opere di urbanizzazione la ricaduta su questa città la ricucitura tra diciamo la sesto di adesso e la sesto che avremo dall'altra parte dove si concentrano per una scelta dell'amministrazione vecchia tutti gli oneri di urbanizzazione e deve essere un tema che deve essere rivisto per far ricadere anche una parte di quegli oneri in questa città però la villa poteva essere un primo elemento su cui ragionare portare l'arte la cui io ho visto che l'assessore Torresani ha portato a sesto un artista peraltro molto interessante giapponese che ha fatto una ecco devo dire che quell'iniziativa a me ha lasciato sperare che si potesse invertire quella rotta e che quindi noi potessimo ragionare con una visione per restituire a sesto quello che sesto forse non ha mai avuto ma che è stato dipinto sulla carta nel 1960 di questo mi dolgo e mi dispiace perché come dire ci siamo ridotti semplicemente a trovare una soluzione di tipo amministrativo che non trova la mia condivisione grazie grazie a lei consigliere Piano dò la parola alla consigliera Di Pietro grazie presidente allora cercherò anche di contenere i tempi dell'intervento vista l'ora quindi uso un'espressione che mi è congeniale faccio mie molte delle cose che ha detto il consigliere Piano perché me le sono scritte quindi le condivido nella maggior parte io volevo dividere il mio intervento in due parti una parte diciamo più sull'aspetto tecnico della delibera e una parte più invece sull'aspetto diciamo politico della stessa per quello che riguarda l'aspetto più tecnico diciamo così quindi ragionando in soldoni allora è vero come diceva il consigliere Pogliaghi come ha detto ovviamente l'assessore che rifunzionalizzando la villa ne beneficiamo l'amministrazione comunale quindi la collettività ne beneficia economicamente perché da una diciamo da una spesa che in questo momento questa villa comporta l'amministrazione comunale se ne trarrebbe un guadagno allora quello che mi fa un po' riflettere innanzitutto il canone previsto devo sottolineare è un canone che rispetto alla media del valore di mercato è leggermente basso quindi forse si poteva anche magari già che c'eravamo se dobbiamo parlare semplicemente in termini appunto come detto prima di soldoni osare qualcosa di più visto quello che è il valore di mercato sulla base di quelli che sono i listini immobiliari della città di Milano e provincia la fideiussione viene data sul pagamento del canone diciamo che è assolutamente positivo il fatto che ci sia una fideiussione mi preoccupa però che altrettanta fideiussione non sia prevista per quelli che sono i lavori che Haaler sarà chiamata a fare all'interno della villa apro una parentesi lavori per i quali non sappiamo non abbiamo un progetto non c'è un capitolato mi sono state date delle risposte dagli uffici perché io ho chiesto di poter avere il capitolato dei lavori mi sono state date delle spiegazioni sulle quali poi tornerò dopo in ogni caso considerando anche quello che è stato detto sulla dubbia solvibilità in questo momento del del contraente quindi di Haaler che non sia stata prevista una fedivisione anche sui lavori questa cosa a me preoccupa mi preoccupa anche perché noi concediamo ad Haaler di poter come dire costruire tra virgolette caso immagine e somiglianza la villa nel senso che i lavori vengono fatti anche per adattare e soprattutto per adattare alle proprie esigenze diciamo l'attuale stato della villa che ricordiamo trattasi di villa storica quindi non di un edificio adibito ad uffici qualunque ma una villa storica quindi parliamo di lavori che ripeto non sappiamo bene in che cosa consistano se non quello diciamo che è più noto la sistemazione della sala del camino la messa in sicurezza perché è vero attualmente quella parte della villa è effettivamente inagibile però ripeto mi rimane il dubbio perché la spiegazione che mi ha dato gli uffici che ringrazio è per la risposta però a me è poco chiara quello che io ho capito è che si parla di un progetto di un primo livello che definisce la fattibilità tecnica ed economica appunto dei lavori quindi del progetto di interventi della parte di ALER di cui però ripeto non si sa nulla poi ci dovrebbe essere un secondo livello che definisce il progetto definitivo e un terzo livello che riguarda il progetto esecutivo però ripeto di questo progetto nulla mi viene detto ripeto oltretutto viene concesso ad ALER questo tipo di possibilità quindi di intervenire nell'ambito all'interno della villa di ripeto adattarla alle proprie esigenze però mi chiedo intanto se ALER è previsto 18 anni tra l'altro la durata del contratto con possibilità tra l'altro per entrambi i contraenti di come dire di recedersi dal contratto in qualunque momento quindi non ne abbiamo neanche una garanzia né che ALER finirà questi lavori né che ALER rimarrà così a lungo all'interno della villa mi chiedo cosa succederà se ALER un domani dà appunto disdetta del contratto e noi ci teniamo dei lavori che magari non sono adeguati a quello che potrebbe essere una nuova rifunzionalizzazione della villa cioè non è prevista la rimessa in prisino dei locali ho già detto il discorso della fideillusione e quindi anche perché se non penso non voglio spensarlo però se si dovessero fare ipoteticamente dei danni superiore al valore dei lavori stessi in questo contratto non è previsto un maggior danno perché qui si dice che ALER dovrà comunque intanto se non finisce il lavoro pagare lo stesso quello che è previsto però e questo viene anche considerato come una sorta di liquidazione anticipata del danno però se il danno è maggiore mi chiedo cosa succede e ce lo teniamo noi in carico questi diciamo sono gli aspetti un pochino più tecnici della delibera dal punto di vista più politico mi rifaccio un po' a quello che diceva prima il consigliere Piano perché stiamo parlando di una villa storica e devo dire che io ringrazio l'assessore veramente della ricostruzione che ha fatto in commissione perché nonostante si assistese praticamente dalla nascita devo dire che alcuni passaggi mi erano sfuggiti cioè io la villa la conosco da quando sono nata quindi per me è un dato acquisito e quindi è stato bello anche riscoprire determinati passaggi nella sorcità di questa villa però proprio per questo io dico potevamo forse ambire qualcosa di più faccio una premessa assessore io sono assolutamente d'accordo sul rifunzionalizzare i beni di proprietà poi del comune che forse per troppi anni sono stati come dire sottovalutati sottoutilizzati e quindi non hanno prodotto un reddito che invece avrebbero potuto produrre un reddito che poi potrebbe essere sicuramente rinvestito in altri interventi sempre a favore della collettività però mi dico la rifunzionalizzazione deve essere come dire rapportata anche alla valorizzazione che non deve essere però per quello che credo soprattutto rispetto a certi tipi di tipologie di edifici semplicemente una valorizzazione economica lei ha fatto una bellissima ricostruzione storica io credo che rifunzionalizzare un bene di questo di questo livello vuol dire valorizzarlo vuol dire esplicitarne il valore storico restituire questo valore storico alla collettività alla collettività che in questo momento come dire utilizza in maniera sottodimensionata perdonatemi l'espressione la villa per la precisazione al consigliere Pogliaghi la sala delle vetrate è già utilizzata se è quella che intendo io quella sotto perché le mostre che vengono fatte occupano anche quello spazio quindi di fatto diciamo quell'ala della villa è sicuramente utilizzata è già diciamo in parte usufruita dalla cittadinanza certo non è sufficiente non è abbastanza sicuramente un progetto complessivo che valorizzi che quindi metta a sistema quello che è il patrimonio storico artistico e culturale diciamo della città ci vuole di un'alice da prima il consigliere Piano nell'arco di pochi metri abbiamo tre ville storiche abbiamo Villa Puricelli io ci metterei anche Villa De Ponti dove c'è la biblioteca attualmente che però probabilmente meriterebbe un'attenzione anche quella Villa Miglius e Villa Villa Zoppi sono quattro ville storiche che potrebbero rientrare in un percorso di ed un progetto complessivo poi dopo di che è chiaro mi si dice se in fretta parlare che cosa si propone è ovvio non è così semplice diciamo che questa villa era stata pensata un po' come destinazione artistica probabilmente magari su quello ci si potrebbe ragionare alla luce poi di quello che abbiamo votato stasera la delibera sulle sponsorizzazioni io credo che se ci fosse un progetto complessivo e di riqualificazione anche in senso appunto di valorizzazione del bene storico e del valore appunto storico e culturale probabilmente sarebbe anche forse dico forse possibile trovare degli sponsor che sono pronti a investire su questi su questi beni patrimonio del comune oppure anche magari perché no visto che l'assessore Torrezani è anche questa delega magari in qualche bando voglio dire questo per dire che forse una funzione più nobile per questa villa poteva essere sicuramente pensata grazie grazie a lei consigliera do la parola al consigliere di Cristo sì grazie presidente scusate mi toccherà parlare dopo i due colleghi che mi hanno preceduto per cui le novità saranno ben poche mi trovano in linea stasera tocca a me dire faccio miei interventi di chi mi ha preceduto ma devo dire una cosa che io mi permetto a parte ringrazio l'assessore per anche io ringrazio l'assessore per la relazione che ci è venuta a fare che ci ha fatto in sede di commissione anche io ho imparato pur essendo a sesto da 50 anni ho imparato i particolari nuovi che non conoscevo per cui è proprio vero che non si smette mai di imparare detto questo mi viene da fare alcune considerazioni su questo su questa delibera e su questa visione che ha l'amministrazione di sesto sulle intenzioni che ha su Villa Pulicelli Guerra mi viene quasi a dire ma non in tono provocatorio perché chi mi conosce sa che non lo sono mai però stasera su questa delibera mi viene da dire quello che si diceva un po' a scuola per spronare gli studenti meritevoli ma che non si impegnavano più di tanto è intelligente ma può fare di più ecco si è preso in senso buono questa mia affermazione cosa vuol dire che sicuramente da un punto di vista come diceva il collega Piano ragionieristico certo con le parole le cose non si va da nessuna parte senza solo con le parole e senza risorse per cui è ovvio che era necessario che siete stati in grado la vostra idea di per recuperare anche per recuperare questa parte di patrimonio storico di Sesto e di insediare una funzione un servizio pubblico all'interno ecco però su questo sicuramente la villa anche io mi ripeto andava a inserire c'è perso un'occasione si sta perdendo comunque un'occasione per inserirla in un disegno più ampio che la città di Sesto merita città di Sesto merita proprio perché in virtù di una cucitura che sarà necessario fare non mi ricordo chi dei due consiglieri che mi ha preceduto l'ha fatto e l'ha accennato la città costruita la nuova città e su questo poi rischiamo di dimenticarci quella che è la parte sul nucleo centrale il nucleo storico di Sesto questa poteva essere un'occasione per dargli una connotazione un'identità io parlerei più di identità del nucleo storico di Sesto San Giovanni torna a quale poi si sono formate si allargate le fabbriche la natura eccetera inserire una funzione come ALER sicuramente ha delle criticità anche da un punto di vista anche se lo guardiamo ragioneristi certo non bisogna paragonarlo rispetto al niente ovvio che rispetto al niente ben venga questa delibera però se facciamo due conti proprio a livello di ragioneria se io divido gli investimenti che possono sembrare ragguardevoli su sugli anni sui 18 anni mi correga se sbaglio per il quale è prevista la funzione che si è insediata la funzione di ALER ma ALER come potrebbe essere quella di qualsiasi altro abbiamo come risultato un circolinvestimento di circa 14 mila euro l'anno che rispetto alla salvaguardia per il ripristino di una villa storica perché stiamo parlando di un edificio storico io adesso non faccio né un'impresa di costruzione né mi occupo di recupero architettonico però come diceva qualcuno prima forse se 3 mila euro non serviva nemmeno per ridipingere una palestra 14 mila euro mi sembra un investimento molto risicato rispetto a quello che meriterebbe questo immobile così come il canone di affitto di 57 mila e rotti euro l'anno se ne dividiamo per i 12 mesi viene circa 4800 euro al mese stiamo parlando di una villa storica e non di un appartamento seppur grande da qualsiasi altra parte in centro a sesto stiamo parlando di una villa storica sfido bene che Haller vuole venire e vuole rimanere a sesto 4800 euro a mese guardi da fittere anche io se lo potessi fare e noi serve però io penso che l'amministrazione e noi tutti non la maggioranza e l'opposizione dobbiamo fare un salto di qualità uno sforzo in più e si poteva fare prima di tutto perché la villa in questo momento non sta crollando abbiamo sì la sala del camino che non è agibile sicuramente se ne era avvisa l'urgenza di intervenire però questa delibera ci impegna giustamente con un impegno per 18 anni quindi per 18 anni non potremo intervenire diversa via sicuramente è affascinante il discorso che ha fatto il collega Piano che sarebbe stato opportuno alimentare costruire alimentare un'offerta culturale incenerato su un percorso di ville storiche sicuramente potrebbe essere una risposta anche culturale dell'amministrazione a una città che forse ha bisogno di cultura perché io ritengo che la politica si debba dar da fare e non debba essere assente anche nell'offrire cultura le società non mi hanno mai lasciate da solo perché poi comunque la mancanza di cultura in ogni caso corre il rischio di generare comunque anche tensione al di là di questo non mi sia presa come battuta proprio stasera abbiamo licenziato il regolamento su responsabilizzazione l'abbiamo anche votato almeno io l'ho votato è stato favorevole abbiamo un assessore che ha dato prova almeno sul regolamento di aver fatto un buon lavoro tanto è vero che è stato anche il regolamento stesso è stato approvato quasi all'unanimità abbiamo una delega nuova che se non sbaglio nelle precedenti amministrazioni non era presente nulla vietava di temporeggiare magari anche solo di temporeggiare e ipotizzare scenari alternativi magari proprio con la ricerca di sponsor perché non dimentichiamoci che una funzione come Aner lei dice assessore su questo mi permetto di essere critico Aner rimane sul territorio siamo fortunati perché Aner rimane sul territorio vorrei ben vedere che non rimanesse sul territorio col patrimonio già di case di appartamenti che ha da gestire anche perché in ogni caso non mi risulta però anche su questo mi corregga non mi risulta che abbia dato disdetta da dove è adesso così come lei ci ha detto che avrebbe un impatto sul centro porterebbe un indotto anzi mi esprimo meglio e ho capito se ha ammesso e non concesso anche che possiamo concordare sul suo discorso di avere un impatto perché poi chi va in Ale si ferma al bar fa la spesa piuttosto che voglio sperare che sia così per gli operatori economici che saranno in zona che sono in zona però ci dimentichiamo che depauperiamo poi la periferia la coperta è quella se la tiriamo da una parte la accorciamo dall'altra per cui depauperiamo non ci interessa non ho capito se per cui dove adesso è vero che non ha un impatto magari ho lavoro con operatori adesso non funziona va bene stiamo parlando di impatto sul territorio togliendola da lì dove adesso la portiamo in centro lasciamo fuori la periferia gli operatori che erano lì avranno delle ripercussioni ce ne saranno degli operatori anche solo chi fa da mangiare che lavora lì in zona ok tra altre cose e questa è una precisazione che le chiedo se non ricordo male in commissione ma sono andato a rivederlo non è importante perché il discorso è più ampio lei parlava di una quindicina di impiegati operatori di Aler che si insedieranno ma mi correga se sbaglio a me sono 50 perché sono 40 più un dirigente attualmente sono 41 perfetto perfetto non c'erano la ringrazio per io la ringrazio per la per le precisazioni date al volvero grazie per cui veramente non è strumentale questa non è una critica stasera quella che sto facendo a questa delibera è un tentare di ragionare con la maggioranza se effettivamente è il caso di fare insediare una struttura di un servizio pubblico del genere in centro a sesto con l'impatto anche vero che ha parlato di impatto sul territorio ma non dimentichiamo ci devono sottovalutare ci sarà anche un impatto in termini di traffico un impatto in termini di parcheggio un impatto in termini di trasporti per le persone perché non penso che tutte le persone che andranno in aler saranno chiudo presidino era rivolto al mio intervento devo chiudere ok non penso che avranno tutti l'autovettura per cui si bisognerà ripensare anche a potenziare il trasporto questi problemi questi aspetti sono stati presi in esame prima di parlare in maniera entusiastica solo degli ipotetici e forse futuri interventi che farà Ale in cambio o no ripeto il mio vuole essere il nostro il gruppo che rappresenta vuole essere un invito alla riflessione non è una critica aperta concludo dicendo sicuramente si poteva fare molto di più quello che è stato fatto è meglio che niente ma potevamo fare molto di meglio grazie grazie a lei consigliere della parola il consigliere vincelli grazie presidente e si mi affascina il progetto chiaramente di piano non capisco perché la precedente amministrazione per anni e anni non l'ha perseguita ora risulta anche abbastanza difficile no considerare chiaramente Aler come una società che deve comunque prendere ordine da noi cioè da un comune io penso che sia abbastanza facile e semplice all'interno di una società gestirsi e decidere se rimanere a sesto o andarsene via come è successo in altre occasioni di aziende anche più importanti Pompe Gabbionetta dove chiaramente l'amministrazione comunale non ha capito l'esigenza no di questa società come anche altre società che sono andate via nel tempo come la Dalcini ad esempio ora io adesso riporto un po' il discorso sul concetto di numerico perché così iniziamo un po' anche a ragionare grazie anche comunque a una richiesta in commissione fatta dalla di Pietro nella quale si chiedeva appunto a Martini Massimo alcuni il nostro dirigente alcuni dati che io qua vi riporto in questo momento le spese di gestione verificate presso gli uffici di ragioneria sono annualmente rilevate in acqua 1998 energia 9.234 CAS 22.819 per un totale di 34.000 se poi andiamo ad aggiungere servizi amministrativi e tecnici per 6.121 arriviamo a 40.173 ora se io dovesse essere un padre di famiglia dico che cosa effettivamente posso fare no in questo momento su quella villa cioè in questo momento ho un non ho fatto un investimento anche perché dal punto di vista strutturale ha bisogno di una riqualificazione allora trovo sul territorio tra l'altro una società cioè quindi l'ALEA la quale è disponibile a dire io questi 40.000 li pago io in più ti aggiungo 57.057 che è il canone annuale sì potrebbe essere anche sicuramente non proprio un canone adeguato per la villa in se stesso però a questo punto ho un calcolo di risultato finale di 97.230 cioè cosa vuol dire che se continuo così avrei solo quindi senza affittarlo avrei solo ed esclusivamente una perdita di 40.000 dove all'interno del servizio non ho sicuramente dei ricavi cioè non mi risultano dei ricavi in questo momento all'interno della villa in più devo andare a considerare che la devo mettere a norma ho bisogno di ristrutturarla e quindi più o meno si è stato fatto un calcolo di investimento di 250.000 questo secondo me la vedo abbastanza lunga quindi allora non solo non tiro più fuori questi 40.000 porto a casa 57.000 euro e in più però ho la possibilità di usufruire comunque di questa di questa struttura come il diritto di utilizzo della sala del camino senza attribuzione dei costi di gestione dell'ente proprietario utilizzatore il diritto di utilizzo della sala spazio esclusivo anch'essa senza attribuzione dei costi di gestione dell'ente proprietario utilizzatore insomma direi che tutto sommato no non è proprio male 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 certo che se per le prossime ville abbiamo chiaramente delle idee dei progetti mettiamoli giù prima non quando poi noi arriviamo con le delibere no con il discorso delle delibere arriviamo ah no però si poteva fare altro io penso che pur di cieli guerra ormai è una questione effettivamente di anni anni e anni che se ne parla ma non vedo che le precedenti amministrazioni abbiano fatto nulla grazie presidente grazie lei consigliere Vinceli do la parola alla consigliera Perego che ha chiesto il raddoppio dei tempi scusi mi scuso per l'ora ma magari è preventivo però non evitare di essere interrotta a metà giustamente perché deve far rispettare i tempi ho chiesto preventivamente il raddoppio dei tempi allora rispetto a quella che è la posizione del partito democratico su questa delibera noi abbiamo inoltrato a tutti i consiglieri io ovviamente a nome del gruppo consigliere del partito democratico a tutti i consiglieri alla giunta la richiesta di sostenere questa delibera non manifestando una posizione politica contrario favorevoli ma fermandoci ancora prima e provando a spiegare le ragioni del perché avremmo voluto appunto rimandare la delibera quindi prima ancora di entrare nel dibattito politico sull'opportunità o meno di svendere una villa storica prestigiosa o su quanto è importante mettere a reddito gli immobili ci tengo a ribadire qui in quest'aula il motivo per cui noi abbiamo fatto la richiesta allora il primo tema ci sono due ragioni una di ordine tecnico e una di ordine politico allora quella di ordine tecnico riguarda l'affidamento diretto che viene fatto stipulando la concessione con ALER allora premessa noi non siamo i tecnici non siamo tecnici non stiamo dicendo che non si può fare l'affidamento diretto ma che vogliamo un parere e proprio per questo abbiamo protocollato lunedì sera vado a memoria no lunedì pomeriggio una richiesta di parere quindi non una segnalazione ma una richiesta di parere all'ANAC all'autorità nazionale anticorruzione per chiedere se è possibile procedere con l'affidamento diretto e questa è la prima motivazione tecnica quindi dicevamo è nell'interesse credo di tutto il consiglio prima di procedere a votare acquisire un parere tecnico che dica si è fattibile o no non è fattibile allora a me ha fatto enormemente piacere anche un po' specie che si sia scomodato o si sia fatto scomodare questo non lo so addirittura il direttore generale di ALER è intervenuto nel dibattito perché a fronte del nostro comunicato in cui dicevamo chiediamo di rimandare la delibera ma esclusivamente in attesa del parere di ANAC ha sentito di dover intervenire il direttore generale di ALER o gli è stato chiesto di intervenire questo non mi è dato di sapere allora prima cosa che mi viene da dire cioè il direttore generale di ALER dice no no si può fare questa cosa grazie se io chiedo un parere lo chiedo a un terzo non lo chiedo a chi è parte in causa nella questione e oltretutto gli argomenti che il direttore generale di ALER porta meritano qua delle precisazioni credo abbiate letto tutti l'articolo comparso sullo specchio dove c'è questa lettera pubblica del direttore appunto il direttore generale ma che contiene alcune affermazioni che credo debbano essere precisate innanzitutto si dice che ALER rientra negli enti pubblici censiti in qualche modo inseriti dall'Istat ogni anno ecco la prima cosa su cui io mi sento di dire che però forse non stanno così è che io qua l'elenco sancito da Istat l'ultimo del 2017 lo lascio all'assessore anch'io ALER non compare e quindi questa è la prima direi imprecisione contenuta in quella in quella lettera e poi c'è quel colpo di maestro che mi sono già sentita dire da alcuni consiglieri che probabilmente si sono portati avanti nella discussione anche sui social che intanto l'hanno fatto anche quelli del PD di Ro anche la giunta del partito democratico di Ro ha fatto una concessione ad ALER a parte che tra i dogmi c'è l'infallibilità del Papa e non degli amministratori locali però detto questo mi viene da dire che l'esempio che è stato evocato non è un esempio molto felice perché è molto diverso dalla situazione di Sesto prima cosa qua stiamo parlando di una villa storica che è patrimonio indisponibile del comune di là si parlava di un appartamento di 140 metri quadri tre locali più gli altri vani Villa Puricelli Guerra è appunto patrimonio indisponibile soggetto a un regime giuridico specifico ma la cosa ancora più interessante è che a Ro prima di procedere ad affidare a dare ad ALER quei locali erano stati fatti due bandi uno di vendita di quegli spazi andato deserto uno di locazione di quegli spazi andato deserto e si sa che quando vanno deserti due bandi poi si può procedere ad affidamento diretto qua non ci abbiamo neanche provato quindi mi piace l'idea io la condivido della logica del buon padre di famiglia ma forse proprio la logica del buon padre di famiglia dovrebbe far sì che si vuole fatte le premesse che poi si può fare la discussione politica si vuole mettere a bando per farlo fruttare un immobile così di pregio vediamo se c'è qualcosa sul mercato che offre di più poi se va deserto si ragiona in altro modo qua ancora togliendo tutti i ragionamenti su facciamo fruttare cioè è giusto o non è giusto cedere una villa storica altra cosa che aggiungo sulla differenza tra Rò e Sesto San Giovanni Rò a Rò Aler gestisce servizi per il comune e si sa che se un ente gestisce servizi per il comune l'affidamento diretto è possibile tanto è vero che nella delibera che prevede di dare questi locali ad Aler una delibera del 10 dicembre 2015 si legge che il tutto avviene tra le premesse perché Aler Milano gestisce l'attività amministrativa e la manutenzione ordinaria degli alloggi ERP di proprietà del comune di Rò cioè gestisce gli edifici residenziali pubblici del comune mentre da noi la manutenzione e la gestione appunto della manutenzione ordinaria ce l'ha un'altra società che si è aggiudicato un appalto quindi situazione completamente diversa ultima cosa i nostri dubbi sul fatto di fare l'affidamento diretto deriva dal fatto che nell'articolo 4 del codice dei contratti si prevede che anche per i contratti esclusi dal codice se sono contratti attivi e se tu incassi un canone di locazione un affitto il contratto è attivo bene anche per quegli contratti che sono esclusi comunque bisogna applicare i principi comunitari di imparzialità di parità di trattamento e di pubblicità aggiungo anch'io sempre stando sul piano tecnico poi arrivo a quello politico che in commissione l'assessore ha dato un'informazione errata dicendo no ma intanto in quella zona l'indotto non ne risentirà perché sono solo 15 dipendenti oggi in servizio nella sede di via Carducci Naler ci sono 40 dipendenti un dirigente in 607 metri quadri diciamo che la risposta del dirigente di Naler ci ha convinto ancora di più della necessità del parere di ANAC e di dire prima di votare questo prima di entrare nel merito vogliamo acquisire il parere di ANAC anzi io lo dico qua il mio auspicio è che lo faccia alla stessa amministrazione perché è giusto che la stessa amministrazione metta tutti i consiglieri nelle condizioni di votare sapendo se quello che vota si può votare sì o no e poi c'è un tema politico allora è vero che si dice che Aller è ente autonomo rispetto a regione invece noi nella lettera che vi abbiamo scritto chiedendo di rinviare la delibera abbiamo detto che avremmo voluto un parere di regione Lombardia vero è che Aller è autonomo rispetto a regione Lombardia però è anche vero che Aller in questo momento è interessato da un piano di risanamento economico perché le condizioni economiche di Aller sono quelle che conosciamo tutti quindi di fatto chi tiene in vita Aller dal punto di vista economico in questo momento è regione Lombardia allora al di là che siano poche o tante poche perché 250 mila euro di lavori su una villa così non sono niente però prima ancora di entrare nella quantificazione qua Aller si sta impegnando a spendere più di quanto non spenda oggi ok e di fatto la sua autonomia è un po' messa in discussione dal fatto che è regione Lombardia che lo tiene in piedi di questa cosa lo sa non lo sa cosa ne pensa è regione Lombardia che tiene in piedi economicamente Aller in questo momento eppure Aller nonostante la situazione finanziaria si sta impegnando a spendere di più di quello che oggi che oggi spende sarà in grado di reggere le spese per quanto minime in più aggiuntive contenute nella delibera e soprattutto è casuale fare questa delibera dove magari forse un parere di regione non avrebbe fatto male in un momento politico di questo tipo dove c'è un avacazio di tipo politico in regione in attesa appunto del rinnovo della giunta regionale non lo so direi che attendere il parere di Anna che attendere un'espressione di regione Lombardia non farebbe male a nessuno dei consiglieri qui presenti e poi aggiungo due cose una nota anche un po' polemica rispetto ad Aller la priorità per Aller dovrebbe essere la ricognizione del fabbisogno abitativo e la ristrutturazione degli immobili da assegnare invece mi sembra che qua Aller sia molto più preoccupata di avere degli uffici prestigiosi che non di investire risorse sul recupero degli immobili questa è una scelta che io mi sento appunto di contestare è importante che Aller rimanga sul territorio certo è importante che Aller rimanga sul territorio ebbene è l'unità operativa che la vede lavorare in sinergia con l'amministrazione comunale ma non è che Aller non ha patrimonio e quindi non potrebbe rimanere sul territorio ecco io credo che attendere fermarsi un attimo e acquisire tutte le informazioni per votare esprimendo sia una scelta politica ma una scelta consapevole e non una scelta magari appunto tormentata da dubbi domande che poi vengono messe a tacere da lettera appunto pubblicate sui giornali sia nell'interesse di tutti secondo me i dubbi qua ci sono non sto dicendo si può fare o non si può fare sto dicendo secondo me qua i dubbi ci sono io personalmente ho l'ingrato compito però di comunicarvi che secondo me la comunicazione che è arrivata oggi ed è stata resa pubblica invece che scioglierli questi dubbi a mio parere li ha resi ancora più grandi grazie consigliera la parola la cantinesa a Iota ok grazie grazie presidente ma mi permetto di fare due osservazioni tecniche la prima su una domanda che è stata fatta non non risulta che comunque Aler abbia dato disdetta per mancato pagamento dei canoni di locazione la disdetta poi sicuramente non sarà stata data perché comunque sicuramente Aler aspetterà la decisione del consiglio comunale prima di poter dire che comunque si trasferirà in Villa Puricelli Guerra mi piacerebbe poi sapere se il tema sono i 57 mila euro che loro ci pagheranno d'affitto se il tema vero sono i 21 milioni di euro che Aler non porta a casa dai mancati pagamenti degli affitti e su questo tema credo che l'assessore abbia iniziato in commissione a darci delle indicazioni su quella che sarà la sua linea politica su tutto quello che sono le case nostre e su quello che riguarda tutto il tema abitativo cosa che spero riuscirà a portare avanti nei termini e nei modi che ha iniziato a rappresentarci anche perché credo che questo sia un altro di quei temi su cui la città aspetta da tanti anni risposte su cui la città lamenta da tanti anni che ci siano delle grosse incongruità altra cosa la polizza mi risulta anche da tutti gli atti che abbiamo analizzato precedentemente che la polizza comunque sui lavori che poi Aller andrà a svolgere non la deve rilasciare Aller ma la deve rilasciare la ditta appaltatrice che poi si occuperà dei lavori su invece il discorso politico beh non non credo che non sia l'ora di polemizzare ma mi fa abbastanza sorridere tutta questa forte attenzione che c'è sul fatto che l'assessore grazie a Dio si sia preoccupato che l'operazione regga a livello economico e grazie a Dio si sia preoccupato di fare in modo che comunque un bene appartenente a questo comune a questa città fosse dato in modo tale che non costasse più ma comunque riuscisse a portare i soldi a casa non apro parentesi su tutto quello che comunque sulle cronache dei giornali in questo periodo perché credo che l'ora non sia adatta per quello che poi riguarda il fatto che gli si poteva dare un'anima diversa si potevano pensare a progetti diversi allora io faccio l'imprenditrice su questo territorio da 20 anni io da 50 anni i miei genitori credo che da 50 anni sento parlare di progetti mirabolanti su come questa città dovrebbe rinascere dovrebbe mettersi in rete le ville le isole pedonali abbiamo fatto voli pindalici da più parti in realtà non è ancora stato fatto niente credo che l'assessore abbia preso la decisione migliore per dare una definizione in questo momento a quella villa che ricordo come ha già detto lui comunque al piano terra rimarrà a disposizione dei cittadini e della pubblica amministrazione mi risulta peraltro che il primo piano degli uffici fosse già occupato da altri uffici all'epoca c'era l'ufficio commercio quindi in realtà la villa in questo momento non viene snaturata dal ruolo che ha avuto fino a questo momento abbiamo votato stasera una delibera sulle sponsorizzazioni certo io vi garantisco che su questo territorio in questo momento abbiamo grosse difficoltà a trovare gente che lo reputi appetibile ma non sulle sponsorizzazioni sui grossi temi del marketing territoriale che ha trattato stasera l'assessore Torresani le bancarelle sul nostro territorio in questo momento non ci vogliono venire perché reputano il nostro territorio al di fuori di piazza Petazzi e al di fuori di piazza del Rondò assolutamente non appetibile reputano il nostro territorio come tutta una zona legata al commercio su cui abbiamo fatto i distretti del commercio che non sono serviti a niente su cui abbiamo fatto tante operazioni che non hanno portato a niente se non a creare ancora più chiusure di attività commerciali poi la scorsa amministrazione ci diceva sempre che era colpa della crisi ma in realtà è stata colpa di una città che non ha avuto nessuna idea su come ridisegnarsi io mi auguro e sono convinta che comunque questa amministrazione per quello che aveva all'interno dei programmi elettorali e per quello che ha sempre detto prenderà una piega e una svolta diversa ma questo richiede tempo la villa non sta cadendo a pezzi ha detto il consigliere di Cristo ma le cose non si lasciano lì abbandonate perché ogni giorno che passa si ammalorano sempre di più questa non è la soluzione migliore non è economicamente 4.500 euro al mese per una villa sono pochi sono tanti beh rispetto a quello che è stato fatto in precedenza direi che sono tanti soldi e che perlomeno è una operazione che si autosostiene poi possiamo discutere sul fatto che magari 200 metri quadri di attività commerciali nel centro di Sesto più o meno costano intorno ai 3.000 e 3.500 euro al mese ma in realtà quello che noi gli stiamo dando è il primo piano degli uffici che sono dentro in una villa dove comunque il piano terra rimarrà usufruibile dai cittadini dagli eventi culturali dalle mostre e da quant'altro quindi questo questo discorso lo trovo veramente poco attendibile e anche abbastanza ingiusto perché comunque l'assessore non ha dato solo una visione di sostenibilità economica ha dato una prospettiva diversa ha cercato di spiegare che comunque avere aler di fianco al comune per i problemi che comunque questo territorio ha anche con tutta la gestione delle case comunali e delle case quindi di aler potrebbe dare una risposta migliorativa anche a tutti i cittadini che comunque vengono in comune a chiedere risposte quindi non ha fatto meramente un calcolo economico di assegnazione della villa e questo giudizio mi sembra un pochino limitativo anche perché in commissione ha parlato per circa un'ora e credo che sia stato abbastanza esaustante costivo cosa toglie aler che va via da lì l'ho già detto in commissione lì non c'è più niente dove sta adesso non c'è più niente quel quartiere devastato da anni quindi se ci sono anche solo due ristoranti che danno da mangiare a 40 persone 30 quanti sono che lavorano all'interno della struttura sicuramente non sarà la dipartita di aler che creerà problemi a quel quartiere che da anni ci dice di essere in una fase di devastazione totale e io lo posso tranquillamente confermare perché lì è stata una delle attività che io ho dovuto chiudere quella era la Monte Napoleone di Sesto e lì è stata una delle attività che io ho dovuto chiudere proprio per quello che è diventata quella zona e non mi risulta che comunque in questi anni qualcuno si sia preoccupato di dare una svolta alla situazione che in quel quartiere c'era c'è e a cui comunque bisognerà mettere mano ritengo questa decisione questa proposta fatta dall'assessore una proposta di buon senso potevano essercene di migliori sì in questo momento io credo che non ci sia tempo e modo di aspettare perché comunque noi dobbiamo andare avanti e dobbiamo cercare di inannellare tutti i tasselli con le proposte che man mano ci vengono fornite in modo tale da poter dare delle risposte delle soluzioni subito che magari poi nel tempo non si inanelleranno a perfezione per esempio come diceva l'assessore il consigliere Piano nel percorso delle quattro ville ma in questo momento il percorso delle quattro ville con l'area pedonale con tutto quanto non è realizzabile ci sono una miriade di cose da fare prima di arrivare alla pedonalizzazione ma una miriade è vero che il tessuto commerciale il tessuto imprenditoriale non è contro una scelta del genere ma con paletti ben precisi quindi non è che uno la mattina si può svegliare e dire benissimo facciamo il percorso delle quattro ville pedonalizziamo non se ne parla nemmeno i percorsi devono essere ben segnati e ben mirati perché questa città ha un sacco di deficit che comunque vanno sanati ritengo che questa proposta sia all'inizio sia economicamente sostenibile e sia all'inizio comunque di un percorso di miglioramento e quindi trova la nostra adesione consigliere grazie presidente solo per un flash nel senso che mi viene da dire uno slogan vento nuovo in città vedo in questa operazione un segnale forte di cambiamento io mi guardo intorno e vedo che ci sono dei comuni che non hanno quattro ville magari ne hanno una sola ma negli anni l'hanno così valorizzata da creare un indotto di flusso turistico e di valorizzazione del loro bene non ho visto nulla di questo in tutti questi anni se mi guardo intorno vedo una villa di cui si parla tanto che è stata parzialmente danneggiata da un incendio a un parco dove c'è un dancing che non mi sembra sia tenuto in modo particolare vedo un parco storico dove se non fosse per un gruppo di volontari che vanno la domenica mattina a tenere pulito un laghetto o qualcosa sarebbe indegrato anche quello quindi approvo con favore questo questa delibera che dà secondo me anche una vitalità in quella zona ci si augura che ci sia un indotto l'indotto potrebbe essere che almeno i quattro negozi che sono esattamente di fronte all'ingresso della villa e che in questo momento sono sfitti e abbandonati possano ritrovare una loro vocazione al negozio avvicinato grazie grazie a lei consigliere Bonomelli prego consigliere Bonomelli grazie signor Presidente volevo fare un altro tipo di intervento mai tardi e cercherò di concludere io pensavo di fare un intervento su che cosa significa fare questo accordo cosa significa fare questo accordo per la popolazione di Sesto che occupa le case popolari che non ha casa quali sono le sinergie che nascono tra il comune con le loro case popolari e l'Aler non dimentichiamoci che entrambi hanno 2500 appartamenti poi questa sera ho sentito parlare della casa bella la casa storica che era bello vederla ma ragazzi questa casa è stata lasciata in degrado perché insomma qui c'è da ristrutturarla c'è da mettere i soldi bisogna mettere i soldi che non ci sono e allora voglio tagliare un po' l'intervento perché anche mi sono stanco su due o tre cose affitto ho sentito dire che l'affitto è basso ma io penso che nessuno va a vedere qual è la situazione immobiliare a Sesto allora la stringo noi abbiamo un palazzo in piazza Aldrino a dieci piani dove c'era la LIMS ente pubblico vuoto abbiamo l'ex impregilo vuoto chiuso murato per evitare occupazioni abusive abbiamo l'immobile della Oracle vuoto abbiamo l'immobile ex Alitalia vuoto abbiamo una miriade di negozi di uffici vuoti e questo ve lo posso dire perché lo vedo anche visivamente noi io il collega della Lega ogni giorno giriamo sul territorio e vediamo quali sono le situazioni e allora c'è una legge di mercato al di là delle valutazioni statistiche minimo massimo l'affitto viene stabilito dall'incontro fra domanda e offerta oggi sul territorio di Sesto esistono esiste un'offerta numerosamente più elevata rispetto alla domanda questo è il discorso dell'affitto poi andiamo un po' l'altro discorso Ale ecco mi sembra che tutti tutti i consiglieri opposizioni si preoccupano della situazione Ale certamente gravosa e perdere ma non dimentichiamoci una cosa importante Ale e questo lo dice non lo sapevo ho visto il programma elettorale di Giorgio Gori non so se lo conoscete dove dice che l'Aler possiede 110.000 appartamenti in Lombardia allora quando io sento parlare di fallimento perché qui sul comunicato stampa si dice che è prossimo al fallimento non lo so forse sono notizie che io che io non conosco bisogna tenere conto che è vero che c'è un dissesto ma c'è anche il monte dei Paschi questo non vuol dire che si fallisce fin quando il socio mette i soldi allora questo questo governo finora ha ripianato tutti i debiti di Sesto dell'Aler scuse e allora il dubbio che mi è venuto quando leggo fallisce dico accidenti ma cosa succede per i 110.000 padroni fallisce si entra nella legge fallimentare poi si dice che probabilmente il governo in via di transizione si pensa che forse vincerà la sinistra e allora ho toccato tutti gli amuleti che ho per evitare questa disgrazia e sono andato a vedere qual è il programma del candidato governatore della sinistra parlando di Aler allora da qui ho capito che l'Aler ha 110.000 alloggi dunque è patrimonio comune di tutelare e rilanciare assicurandoci che venga messo al servizio di chi ne ha veramente bisogno l'edilizia pubblica è un intervento di welfare sociale e di qualità etica va gestita va gestita bene dice anche un'altra cosa dice per quanto riguarda l'Aler di Milano perché poi sembrerebbe io prendo relata refere che l'Aler di Bergamo Brescia Como e Sondra vadano benissimo il vero problema riguarda l'Aler Milano la predisporzione di un piano di intervento perciò anche la sinistra prevede non il fallimento ma un piano di intervento che andrà proceduto da una ristruttazione societaria quello che sta succedendo adesso una riorganizzazione del debito quello che si sta facendo adesso in grado di avere allora e la suddivisione di Aler Milano in grado di avere un rapporto più diretto con gli inquilini ma questo è un imprimatur a quello che vogliamo fare noi perché è quello che vuole fare il comune di Sesto con questa delibera è proprio di andare in sinergia con Aler per risolvere i problemi e allora quali sono i problemi? Non cito mica non cito gente della nostra fede politica cito sempre il candidato Gori dice che va fatto per poter risolvere i problemi di Aler sono due o tre le cose principali la prima che c'è un'amorosità che va dal 35 al 40% secondo che va accertato la titolierità del diritto all'abitazione dicendo che vanno fatto scelte chiare per verificare l'accertamento dei requisiti per distribuire chi dovrebbe avere veramente bisogno di un tetto ed è moroso incolpevole e chi invece occupa e non è un moroso ma un delinquente che va buttato fuori ma questa è la stessa cosa che diciamo noi nella Lega allora il problema cos'è possiamo fare delle discussioni pindariche etiche teoriche culturali ma il vero problema di sesto è il problema abitativo la Villa Puricelli Guerra benissimo Villa Storica ma chi nel passato l'ha voluta pagando il giusto nessuno si ipotizza che qualche d'uno potrebbe prenderla si ipotizza che qualche d'uno potrebbe sponsorizzarlo ma sono solo ipotesi la realtà è una sola che in questo momento con questa delibera il comune di sesto non avrà più 40.000 euro di spese infruttuose e verranno aggiunte anche 57.000 euro di affitto e di qui voglio fare un discorso tecnico e poi chiudo si parla tanto della famosa fideusione sarà in grado aler di far fronte alla fideusione di 3.600.000 beh ragazzi ma voi sapete di che cosa si tratta di quella fideusione quella fideusione in contratto è una fideusione di rischio locativo e allora faccio un esempio io vado a fare una responsabilità civile della mia macchina vi dico la generalo e mi ha detto guarda io ti faccio 50 milioni di euro e non ti faccio aumentare il premio ma io non qual è il rischio è 50 milioni di euro certo se mi assicuro un caramato con la targa vengo qui tiro giù il comune l'assicurazione deve pagare 50 milioni ma in effetti il vero rischio che viene calcolato sono i danni che il conduttore a questo punto potrebbe causare causare nel periodo di locazione e qui c'è non c'è più piano allora non gli dico qual è l'articolo e va bene ultima cosa abbiamo detto che si risolve un problema economico l'immobile verrà ristrutturato se non viene ristrutturato ci sono anche le garanzie del rischio locativo perché se io devo ristrutturare butto giù 4 milioni e poi mi fermo ovvio che questo è un danno rischio per il comune zero non dimentichiamoci che tutti i canoni si vengono fatti anticipatamente non paghi rescissione non dai la fiducia rescissione e qual è il rischio nessuno va bene purtroppo devo concludere e se non anche ecco bene grazie grazie a lei consigliere se non ci sono altri interventi do la parola all'assessore prego assessore grazie presidente devo dire che è stata una discussione piuttosto ampia nonostante l'ora sono intervenuti tanti consiglieri sia di maggioranza che di opposizione e io ho preso nota esattamente di ogni cosa che è stata richiesta da tutti i consiglieri principalmente da quelli delle richieste fatte dall'opposizione e devo dire che a una buona parte delle domande è stato risposto già dai consiglieri di maggioranza però è giusto ribadire alcune cose che sono importanti allora quando qualcuno ha messo il dubbio sulla congruità dell'affitto io vi dico attenzione perché oltre a quello che ha detto il consigliere Bonomelli del fatto che ci sono un sacco di strutture vuote in città e che quindi tu puoi mettere l'affitto teorico che vuoi ma non te lo prende nessuno questa congruità del valore è stata scritta nero su bianco e determinata dal responsabile del settore patrimonio ed emagno un professionista che lavora per il nostro ente e che ha messo il suo nome e cognome firmato sotto la stima cioè non è che noi siamo andati a caso a dire a tirare fuori dei numeri della lotteria e mettiamo 57 mila euro abbiamo messo 57 mila euro perché c'è una stima che ci dice che quello è il giusto valore e abbiamo trovato chi ce li paga nonostante ci siano un sacco di case vuote certo certo è vero che adesso Aller è in una struttura di un privato di una cooperativa e la lascerà libera e probabilmente dà fastidio a quella cooperativa trovarsi una struttura vuota che magari non riempirà mai più perché abbiamo visto quante strutture vuote di quel tipo ci sono in città e allora sicuramente al privato dà fastidio ma noi non dobbiamo fare l'interesse del privato noi dobbiamo fare l'interesse pubblico perché questa è la nostra funzione e quindi la nostra funzione non è garantire un incasso alla cooperativa che affitta ad Aller ma garantire che i nostri conti a fine dell'anno tornino perché qui ho sentito grandi parole dobbiamo prevedere una funzione di qua e di là signori ma vi rendete conto della situazione degli enti locali ma vi rendete conto che i comuni sono al fallimento ma vi rendete conto che lo Stato ci continua a drenare risorse e non ne abbiamo più per non parlare dei problemi che ci siamo trovati poi qua per residui eccetera eccetera ma non è la sede questa e non è il momento per parlare di questo ci rendiamo conto che lo Stato centrale invece di dare risorse ai comuni continua a toglierle questi sono problemi che quel referendum dell'autonomia che è stato votato dalla maggior parte dei lombardi ha sottolineato forte e ha detto a Roma basta non ne possiamo più di vedere le nostre risorse drenate dobbiamo rinegoziare le competenze e i quattrini perché noi non ce la facciamo più andare avanti i nostri bilanci non si riescono più a fare e siamo costretti a far tornare i conti e quindi noi facciamo una cosa è un'operazione straordinaria è un'operazione che lei consigliere Piana lei ci dice 50 anni fa c'era un progetto e tutte le amministrazioni che si sono susseguite in 50 anni che cosa hanno fatto di quel progetto zero nulla assoluto ci siamo trovati noi ad affrontare una situazione disastrosa questa struttura era una struttura che era solo un costo ed era usata da sette persone ci costa 40.000 euro all'anno quella struttura e c'erano dentro sette persone a lavorare ma siamo matti ma questo è lo sperpero delle risorse pubbliche noi ci metteremo 50 persone di Aler a lavorare e Aler non è un privato che viene a farsi i fatti suoi la funzione abitativa è fondamentale è qui che entra la politica noi non solo sistemiamo i conti noi salvaguardiamo l'interesse pubblico culturale perché quella struttura non farà niente in meno di quello che fa adesso sotto l'aspetto culturale e allora se voi dite che non si è fatto abbastanza per la cultura in quella struttura è chi ha amministrato in questi anni che non ha fatto abbastanza per la cultura in quella struttura perché noi la garantiamo esattamente come viene fatta adesso perché le mostre che si facevano si faranno sempre nella stessa stanza anzi noi mettiamo a disposizione gratuitamente quella sala perché il costo del riscaldamento e della gestione sarà a carico di Aler e noi mettiamo anche a disposizione la sala del cammino 30 giorni all'anno che adesso non la usa nessuno perché va giù e non ci saranno mai soldi per aggiustarla e quindi salvaguardiamo l'interesse pubblico culturale ma cosa facciamo non facciamo venire la coca cola che vende le sue bottigliette dentro quella villa noi non ci mettiamo la sede scusate se ho fatto il nome di ma non ci mettiamo un privato che viene a fare i fatti suoi ci mettiamo Aler che Aler con noi sta facendo un lavoro enorme sui predisposizioni dei bandi e farà un lavoro epocale perché noi abbiamo ormai chiuso verbalmente l'accordo con tutti gli attori interessati la regione Aler la nostra amministrazione e la prefettura e stiamo preparando le carte per presentare un grande progetto di verifica di tutti i 2500 appartamenti di proprietà Erb e Aler che ci sono a Sesto San Giovanni perché per andare a capire se ci sono dei furbi dentro e nelle prime verifiche che abbiamo fatto lo sapete perché sono usciti sui giornali si è visto che c'erano appartamenti Erb utilizzati in modo indiscriminato da persone che se li facevano assegnare e poi li subaffittavano ad altri ci lucravano ecco queste cose sono intollerabili noi li andremo a cercare uno per uno e lo dico pubblicamente perché i furbi devono capire che è finita non c'è più spazio per i furbi perché c'è una tensione abitativa reale in questa città il bisogno della casa è fondamentale e noi dobbiamo togliere dalle assegnazioni tutte quelle persone che ci marciano perché c'è gente che ha veramente bisogno e non possiamo non dare un qualcosa a queste persone e quindi la casa mi fa specie che la sinistra venga a dire no che non è una funzione giusta quella di mettere dentro che è l'ente che deve dare la casa ai cittadini che hanno bisogno ma qual è la funzione più importante se non quella di avere un tetto dove andare a dormire non è possibile dire che politicamente è sbagliato fare un accordo con Aller e metterla nel centro della città sì noi la mettiamo nel centro perché per noi la casa è fondamentale e noi dobbiamo dare dei servizi ed è un output per i nostri cittadini dobbiamo dirgli la casa noi cerchiamo di darvela facendo cosa una collaborazione forte con Aller una collaborazione vincente che andrà a liberare le case prese dai furbi e che andrà ad assegnare tutte le case che arriveranno a chi veramente ha i requisiti con le nuove norme regionali che io ritengo siano giuste siano più eque rispetto al passato e che contemplano anche lo dico perché è una cosa che noi riteniamo fondamentale anche la presenza delle forze dell'ordine nell'assegnazione perché la forza dell'ordine assegnare alcune abitazioni le forze dell'ordine ci garantisce anche il controllo continuo all'interno dei palazzi e ci garantisce l'informazione sui furbi che ci sono dentro e ci garantisce che non dovremmo più fare poi un'altra operazione epocale come quella di andare dentro 2.500 appartamenti perché adesso non si sa davvero cosa c'è quindi noi partiremo da zero faremo il punto zero con Aller lavoreremo insieme e questo sarà un lavoro che durerà tantissimo tempo perché non è facile e sarà fatto a braccetto dai nostri uomini dal nostro personale e dal personale di Aller quindi sarà una collaborazione strategica e più strategico di avere Aller in una nostra struttura non può esserci in questo comune quindi io ribadisco che questa è una scelta importante e non mi fermo ad aspettare il parere di chi che sia quando abbiamo visto che anche il PD ha fatto queste cose più in piccolo perché loro non hanno avuto questo progetto strategico di fare quello che stiamo facendo noi con Aller però l'hanno assegnata anche a Rò lei dice che è una cosa diversa intanto l'hanno assegnata hanno fatto due bagli a ribasso attenzione perché continuare a fare le cose metterla fuori e nessuno ci arriva allora abbassi il valore abbassi il valore abbassi il valore continuamente noi non abbiamo fatto questa scelta di far abbassare il valore perché noi l'abbiamo messa fuori al valore più alto quello scelto dalla stima senza le riduzioni dovute al fatto che sia andata deserta un'asta quindi ribadisco ancora la correttezza di questo non sto a leggere tutta la lettera di Aller che confuta la vostra richiesta la richiesta del PD di sospendere questa delibera perché l'avete già letta è inutile adesso alle due di notte che mi metto a leggere due pagine di lettere ma è pubblica l'avete vista e quindi anche sul fatto che Aller sia un ente pubblico e in più vi dico ancora un'altra cosa noi non è che portiamo le delibera a caso c'è un segretario comunale che certifica la correttezza di quello che si fa quindi se noi arriviamo in consiglio comunale con una delibera è perché è legittima poi chiunque può chiedere un parere a chiunque quindi chiedete pure tutti i pareri che volete noi siamo pronti ad accettare le richieste da parte di chiunque a chi volete però non ci fermiamo noi non perdiamo più tempo voi avete aspettato 72 anni a sistemare Villa Policelli Guerra noi in sei mesi l'abbiamo fatto grazie Assessore se non ci sono altri interventi faccio presente che alla delibera è stato presentato un ordine del giorno do la parola alla consigliera Roberta Perego un ordine del giorno che in realtà diciamo smentisce quello che ha appena detto l'Assessore cioè che il tema abitativo non sia prioritario per la sinistra tra l'altro è un ordine del giorno firmato da tutta l'opposizione che vede nelle premesse innanzitutto delle premesse di ordine generale rispetto al fatto che per noi la casa rappresenta un valore un diritto primario ovviamente da considerarsi tutelato dalla Costituzione e un servizio insostituibile e nelle premesse affermiamo che per noi è necessario riporre al centro continuare a porre al centro la questione abitativa perché si trovino delle risposte adeguate dal punto di vista delle risorse economiche e delle politiche urbanistiche e sociali si richiama poi la legge 328 del 2000 che ha valorizzato il ruolo dei comuni e di fatto ha istituito tutto il lavoro dei piani di zona degli ambiti si richiama l'ultimo regolamento regionale dell'agosto 2017 che ha per oggetto disciplina della programmazione dell'offerta abitativa e pubblica che dice appunto che i comuni hanno come strumento il piano triannale dell'offerta dei servizi abitativi e il piano annuale dell'offerta dei servizi abitativi pubblici e sociali e in riferimento a questo proprio perché si dice che ai comuni spetta seguito di quella delibera appunto di quel regolamento si dice che ai comuni spetta entro il 31 ottobre la ricognizione delle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici visto tra l'altro che il piano di zona è scaduto nel 2017 quindi bisogna procedere a stilare un nuovo piano di zona e quindi a adesfare una descrizione socio-demografica anche della situazione abitativa che va inserita nel piano di zona vi leggo il dispositivo come consiglio comunale impegniamo la giunta ad attivarsi alla definizione dei fabbisogni abitativi del territorio facendo una riconizione puntuale da inserire poi nel futuro piano di zona secondo i principi di sostenibilità di trasparenza di efficienza di efficacia e di economicità e poi su questo ovviamente il riferimento regionale l'altra cosa che ci sembra importante è che di questo poi la giunta si è impegnata a dare informazioni al consiglio comunale sullo stato di avanzamento di questo grazie consigliera Perego prego sessore allora io su questo ordine del giorno vi voglio dare il mio parere che non è un parere contrario in linea di principio ma è un parere che non è favorevole ad accoglierlo per un motivo molto semplice perché voi avete fatto in modo poi stemporaneo un documento in parte senza concordarlo con una maggioranza che è molto focus oriented quindi molto orientata sulla soddisfazione dei bisogni abitativi e quindi l'avete inserito in un provvedimento che non è finalizzato alla soddisfazione dei bisogni abitativi ma è un provvedimento sull'assegnazione di Villa Puricelli Guerra ad Ale che è una cosa diversa quindi l'argomento anche se Ale fa quello di dare case però l'argomento di questa sera non è quello quindi arriva in via in stemporanea una cosa importante su un tema fondamentale e quindi io vi propongo invece di fare una facciamo proviamo a trovare una cosa concordata io sono disponibile a fare anche delle sedute di commissione sul tema della casa sono disponibile a essere con voi non solo con la mia maggioranza ma anche con l'opposizione quindi con tutta la commissione possiamo fare delle riunioni di commissione alle quali partecipa l'assessore alla casa e al patrimonio per discutere del problema della casa come io sto facendo e ho già fatto e continuo a fare anche con i sindacati quindi io vi propongo invece di fare una cosa così istemporanea ritirarlo ma darci poi appuntamento col presidente della commissione convocare uno o anche più commissioni per discutere di questo tema e se poi trovassimo anche una linea comune io sono il primo a dire che sono felice se riusciamo a trovare una linea comune certo se poi ci sono delle posizioni diverse come io ho visto nei giorni passati che alcune inquiline eccetera alcuni sindacati hanno preso posizione contro il fatto di dare anche dell'abitazione forze forze dell'ordine questo è un tema importante ci può essere una condivisione o meno magari qualche partito non è d'accordo qualche altro sì però secondo me dato che il problema della casa non è solo per chi è di centro destra o di centro sinistra ma è un problema di tutti i cittadini anche fare delle riunioni insieme affrontarlo insieme invece che affrontarlo solo di parte con l'ordine del giorno può essere vincente anche perché io non ritengo di avere e possedere il dono di essere il padre eterno e sapere tutto cioè io accetto anche le giuste sollecitazioni e magari idee che possono essere anche interessanti e qual è il luogo migliore che la commissione per fare questo per poi portare magari anche un documento comune se vogliamo in futuro sono disponibile a questo al dialogo non mi sottrappo quindi io vi invito a fare un passaggio di questo tipo ritirare questo ordine del giorno darci appuntamento in commissione e fare un percorso insieme vi offro proprio la possibilità di costruire anche insieme a noi un percorso virtuoso che debba risolvere questo grave problema che è quello della casa prego consigliera prego merito alla proposta dell'assessore mi sento di dire che innanzitutto grazie sicuramente per la proposta di un percorso condiviso tra l'altro non so se se lo ricorda proprio anche come opposizione abbiamo chiesto di iniziare una commissione sul tema delle politiche abitative per cui siamo assolutamente allineati sul fatto che una, due quelle che saranno necessarie visto che per voi è una priorità così importante su questa cosa noi ci siamo e siamo disponibili ora l'ordine del giorno è collegato alla delibera visto che nella delibera c'è un tema di concessione di un immobile ma su cui vengono inserite delle giustificazioni che non sono solo di valorizzazione di un immobile ma sono anche di una sinergia fra Aler e l'amministrazione comunale per dare risposta al bisogno abitativo e il tema abitativo perché ci sia una collaborazione che serve di fatto ai cittadini quindi l'ordine del giorno è collegato al tema di come l'amministrazione in collaborazione con Aler vuole farsi carico del fabbisogno abitativo la delibera impegna di fatto la giunta in un percorso che non è tanto quello delle commissioni della condivisione ma che è un percorso di fatto previsto dalla legge e che è quello della ricognizione entro il 31 ottobre quello dell'inserio e tale ricognizione nel piano di zona e di aggiornare il consiglio comunale ora sugli emendamenti siamo riusciti a prepararlo prima l'ordine del giorno si chiude anche nel pomeriggio visto che comunque tutti lavoriamo abbiamo altri impegni dove è possibile ve l'abbiamo dimostrato con gli emendamenti facciamo arrivare prima la proposta ora non è che qua deve diventare la gara a chi se lo intesta noi riteniamo questa richiesta una proposta importante cioè l'amministrazione può farla giunta può farlo su e diventa comunque approvato da tutti per cui questo potrebbe essere l'inizio il passo d'inizio di quel cammino condiviso che lei auspica ok se non ci sono interventi metterei in votazione l'ordine del giorno apro la votazione ah scusi consigliere apro la votazione chiudo la votazione consigliera Iosa eh grazie presidente contraria consigliere Leo favorevole con 14 voti contrari 8 favorevoli la mozione è respinta si procede ora alla dichiarazione di voto pista popolare per sesto consigliere Piano grazie presidente io avrei bisogno di 30 minuti per rispondere all'intervento dell'assessore D'Amico se posso perché ha toccato temi dal federalismo fiscale all'Europa alla lotta alle povertà alla casa insomma che richiedono come dire un po' di tempo alla sinistra che poi di fatto assessore D'Amico di sinistra ci sono solo io qua dentro perché come può notare c'è il partito democratico il movimento 5 stelle io sono l'unico ah chiedo scusa c'è la vista anche la consigliera di chiesa però torniamo al tema ho assistito a una devo dire a un dibattito che secondo me ha avuto un po' e lo ripeto un sapore condominiale perché che può essere un approccio amministrativo pratico pragmatico concreto per affrontare i problemi e le riconosco che effettivamente lei sta cercando concretamente di risolvere un problema economico finanziario e di manutenzione di una villa storica con un approccio che non è da ben condiviso ma lo rispetto costato lo dico prima non c'era il sindaco che dal mio punto di vista lo sforzo della politica deve essere un po' più alto noi dobbiamo avere una visione io prima ho parlato dell'anello di bottone nel 1962 mi sono seduto lì per qualche tempo non tantissimo sono stato due anni però è uno dei primi temi che ho trattato era proprio quello della pedonalizzazione ecco io avrei preferito che rispetto a questa proposta vi fosse un approccio più una visione urbanistica della città e ritorno sul tema della bellezza e sul tema della pedonalizzazione noi perdiamo un'occasione e la perdete soprattutto voi che avete una forza contrattuale maggiore siete al governo della regione adesso le faccio l'esempio di Monza Monza lei lo saprà meglio di me ha ristrutturato la villa reale dopo tanti anni che era rimasta in uno stato di abbandonamento lì sono riusciti a portare delle funzioni di qualità hanno fatto un intervento di finanza di progetto però lì adesso troviamo una sede importantissima della Triennale ecco io mi sarei aspettato una cosa di questo tipo perché credo che la città la meriti mi ha stupito anche un po' l'intervento della consigliera Iosa che sul tema della pedonalizzazione la trovavo molto sensibile adesso preferisce magari aderire a una risposta più pratica che però non ha un profilo politico duraturo nel tempo portiamoci l'aler diciamo tra le funzioni certamente centrali perché il tema come dire è un tema caldo portiamocelo pure nel centro di Sesto San Giovanni ma con la consapevolezza di avere un interlocutore che sappiamo tutti e lo ripeto che ha forti criticità finanziarie e su cui anche da un punto di vista delle garanzie non siamo adeguatamente ecco per e che poi però toglie una possibilità e una prospettiva alla città approfitto perché ho due minuti proprio perché sul tema della pedonalizzazione come sapete io per rilanciare l'appello al sindaco perché lui ripeto non c'era prima ma sa che ogni tanto vado a rompere le scatole perché questo è un tema che mi è caro abbiamo quel progetto che dobbiamo ripescare quello non so se lo ricorda il signor sindaco io gli ho portato una sono venuto da lei non per chiedere un posto di lavoro ma gli ho portato una mail per discutere sulla pedonalizzazione e mi permetto di insistere su quella cosa perché possiamo fare un progetto partecipato e finanziato facciamolo zoppo nel senso che lo facciamo sapendo che una villa è ipotecata una funzione pubblica sia pure importante ma comunque portiamola avanti in ogni caso io proprio per questa visione che credo sia un po' più nobile rispetto a quella pratica condominiale ma che sicuramente sarà apprezzata dai cittadini poterà conto grazie consigliere piano do la parola insieme con Monica Chetot consigliere Di Pietro grazie presidente allora una precisazione prima rispetto a quanto detto dall'assessore allora io avevo ho fatto sì un appunto sul sul canone però l'ho fatto perché in commissione io avevo chiesto di poter avere la relazione di stima da cui veniva calcolato il canone e non l'ho avuta no mi sono arrivate altre risposte quella no per quello che io dico mi sono attenuta e no lo dico ma nel senso che infatti adesso l'ho detto anche al dottor è fuggita va bene prendo atto no ma giusto per precisare perché io non voglio mettere in discussione quello che gli uffici fanno e i professionisti dichiarano ci manca no non mi è arrivata me ne scuso forse devo sollecitarla ma anche a me passa da la mente no ma infatti per quello che poi mi sono tenuta a questo nel senso che non sono una tecnica faccio altro nella vita e quindi ho verificato solo per quello però lungi da me di voler mettere in discussione il lavoro fatto dagli uffici era una precisazione che ci tenevo a fare perché rispetto assolutamente gli uffici e il lavoro che fanno detto questo non mi ripeterò sulle cose che ho già esternato io apprezzo lo sforzo voglio dire io comprendo e ripeto è stato anche un punto diciamo così delle linee programmatiche della nostra campagna elettorale quello di rifunzionalizzare gli edifici cioè lo dico e ripeto approvo apprezzo lo sforzo fatto dall'assessore e ci mancherebbe continuo a non convincermi la funzione cioè questo è per quelle cose che ho già detto quindi non perché a noi non stia a cuore il tema della casa anzi colgo la sua disponibilità ne avevamo parlato anche alla fine della della commissione di poterci incontrare per ragionare sul tema che è sicuramente un tema importante un tema complicato un tema complesso apprezzo anche quello che lei dice di lo sforzo che sta facendo per controllare anche perché assolutamente è un patrimonio pubblico che deve essere destinato a chi effettivamente ha bisogno quindi questo sì rimango dubbiosa su quello che ho detto quindi con dispiacere devo dire il nostro voto sarà contrario grazie consigliera do la parola ai cittadini di Sesto consigliere Aiosa grazie presidente il nostro voto sarà favorevole Movimento 5 Stelle consiglieri di Cristo sì grazie presidente intanto qualche precisazione in ordine all'intervento che ho fatto prima anche per me la filosofia non è la critica pura o la bocciatura di questa la bocciatura totale della delibera che portate stasera in consiglio che io apprezzo lo sforzo ma l'ho sottolineato più volte durante il mio intervento piuttosto che niente meglio piuttosto anche a me non convince la la funzione che viene inserita nella villa per i consiglieri vincelli pagano mi pare di aver sentito pagano un affitto noi non paghiamo le spese le spese le pagano loro ci mancherebbe altro pagano un affitto di solito si pagano anche le spese mi piace molto invece l'idea del consigliere Piano su cui ha insistito più volte di rispolverare l'idea della pedonalizzazione in senso più ampio la pedonalizzazione del centro che più volte penso che nei suoi incontri con il sindaco sia consentito una battuta da politico esperto qual è ovvio che non chiederebbe un lavoro con una mail probabilmente a voce lo farebbe lei non lascerebbe le mail ma al di là di questo e so che non ne ha bisogno tra parentesi ma mi piace proprio per ricucire e per dare un qualcosa a questa città in in contropartita questo l'ho detto prima e lo sottolineo con forza adesso soltanto ritengo che mi dispiace votare contro mi dispiace votare contro questa delibera so che passerà lo stesso non è una critica rispetto a tante altre volte non è perché voto contro perché siamo l'opposizione comunque qualcuno può pensare siamo convinti che si poteva fare di meglio proprio ripeto anche in virtù di uno strumento nuovo che abbiamo licenziato poc'anzi col voto di tutti che è quello dello sponsor delle sponsorizzazioni certo sarebbe stato difficilissimo questo lo comprendo anche sarebbe stato difficilissimo vista anche l'entità e l'ammontare della somma richiesta per un intervento necessario e che merita una villa del valore storico quale Villa Puricelli riteniamo che sarebbe stato opportuno e ripeto un segnale da parte della politica ci sarebbe dovuto stare dopodiché questa poteva essere una soluzione di ripiego e solo una precisazione per l'assessore così giusto anche per visto che sono le due e mezza di notte sulle case alle forze dell'ordine visto che parliamo in politica noi siamo perfettamente d'accordo sull'assegnazione delle case alle forze dell'ordine ma questo sia a livello personale sia con il movimento forse l'assessore la Miranda se lo ricordo concludo presidente che eravamo in opposizione assieme all'epoca presentammo anche un ordine del giorno all'epoca durante due consigliature fa che ci fu bocciato dall'allora maggioranza ma è una proposta di vecchia data che facemmo proprio come movimento per lo meno su questo ci troviamo anche d'accordo grazie grazie consigliere do la parola all'ista di Stefano Sindaco consigliere Attanasio grazie grazie presidente grazie stasera vado a letto molto contento molto contento perché sono in sintonia molto in sintonia con l'assessore D'Amico ho sentito due parole controlleremo 2.500 appartamenti e questo era ora finalmente era ora i bandi precedenti l'80% degli assegnatari erano stranieri speriamo che andiamo l'inverso va bene comunque il nostro gruppo è certo favorevole a dare in concessione a un partner importante una parte di una villa una parte della villa importante solo il piano alto si sta parlando per cui sicuro che ne farà un buon uso comunque il mio voto è favorevole grazie consigliere Attanasio dalla parola lista Caponi sindaco consigliere Pogliaghi grazie presidente il nostro voto è favorevole due note solo velocissime uno è che l'opportunità è adesso quindi Aler poteva benissimo se rimandiamo le cose decidere di mettere l'unità organizzativa da un'altra parte e perdevamo un'occasione grande per noi dopodiché una seconda nota sullo stato dei conti andandosi a guardare i bilanci consolidati del 2016 di Aler rispetto a quelli del Comune di Sesto San Giovanni facendo un paragone ci ha messi peggio noi peggio noi di Aler guardate i debiti e poi ne ripartiamo grazie grazie a lei consigliere do la parola a Lega Nord consigliere Pasquinelli grazie presidente io mi limiterò solo alla parte finale della relazione perché è stato detto tutto e poi i tempi stringono mi aggancio solo sulla parte finale per la dichiarazione di voto allora per una struttura attualmente sottutilizzata e bisognosa di manutenzione urgente in alcune sue parti e in continuo degrado è stata trovata una soluzione più che soddisfacente e molto vantaggiosa per noi sia per quanto riguarda il recupero strutturale della villa sia per quanto riguarda il beneficio economico che ne deriva l'amministrazione come gruppo lega nord non possiamo che essere soddisfatti di questa soluzione e vogliamo esprimere il nostro apprezzamento all'amministrazione e in particolare all'assessore Claudio D'Amico e il suo staff per l'ottimo lavoro svolto gruppo lega nord vota a favore della delibera grazie grazie a lei consigliere do la parola a Forza Italia consigliere Rosa Vittoria grazie presidente Forza Italia voterà favorevole grazie a lei Partito Democratico consigliere Apperego grazie presidente ma rispetto alle cose che ha detto l'assessore anche in merito alla scelta di procedere affidandosi a quella che è stata la lettera pubblica del direttore generale Vialera a me viene da dire io forse invidio la superficialità con cui in certi momenti questa amministrazione dimostra di approcciarsi agli atti perché dire eh nessuno l'ha mai presa eh avranno fatto i bandi ragazzi fare i bandi non è una cosa che si sceglie se piace o non piace io sto riportando quello che è un dato sono stati fatti dei bandi che sono andati deserti e in virtù del fatto che siano andati deserti i bandi si è fatto un affidamento diretto mi ha fatto piacere che il tema non abbia scalfito nessuno va bene noi attendiamo intanto il parere di Anac in virtù di questo noi proprio perché vogliamo sapere votiamo contro questa delibera rispetto a una serie di cose che vengono dette bene valorizzare gli immobili tutto quello che ha detto rispetto al rimettere al centro il tema eh della casa siamo d'accordo sul tema dell'assegnazione delle case ehm alle forze dell'ordine siamo d'accordo poi però mi viene da dire tutta questa capacità di valorizzare gli immobili o comunque di procedere in questa direzione il suo partito non è che proprio l'ha dimostrata assessore perché volevo ricordarle forse non lo sa dovrebbe parlare con gli alti vertici che c'era aperta un'interlocuzione con la direzione della SST perché eh appunto ehm indicasse come propria sede Villa Puricelli Guerra era un'interlocuzione già uno stadio avanzato se non che il consigliere di Cinisello Iaricolla ha fatto votare eh della Lega ovviamente ha fatto votare un ordine del giorno in consiglio regionale con cui si impegnava invece la SST a non venire a sesto quindi la Lega non l'ha voluto a sesto e ad andare invece a Cinisello dove c'era la sede del Bassini eh appunto la parte quella non utilizzata quindi forse anche al vostro interno diciamo che si guarda alle proprie partite e propri interessi eh e non si è certo voluto valorizzare un percorso che invece era attivo anzi lo si è voluto ostacolare io ribadisco la lettera del direttore generale ne prendiamo atto secondo me va atteso un parere mi fa piacere che lei che è stato un amministratore locale si appunto si interfacci con gli atti in maniera così superficiale grazie consigliere dal parola sesto nel scuole consigliere Valsecchi eh buonasera presidente colleghi consiglieri eh rimanendo in attesa che si concretizzino tutte queste possibili proposte di valorizzazione delle nostre ville di cui sento parlare ma che non vedo concretizzarsi eh la nostra lista è favorevole alla delibera grazie grazie procediamo alla votazione apro la votazione chiudo la votazione consigliere Ariosa eh favorevole grazie consigliere Leo contrario con 14 voti favorevoli 8 contrari la delibera è approvata l'immediata eseguitività apro la votazione apro la votazione chiudo la votazione diciare il voto mi scusi presidente mi ero allontanata dichiare il voto favorevole io favorevole consigliere Ariosa favorevole consigliere Leo tocca a me contrario quindi con 15 voti favorevoli 6 contrari viene dichiarata l'immediata eseguitività grazie passiamo la delibera al punto 31 approvozione schema di accordo tra comune società Biedembresta SRL do la parola al relatore di commissione ricupero molto breve non so se dire buonasera o buonanotte perché siamo quasi buongiorno ma bene allora in data 6 febbraio 2018 alle ore 18.30 si è riunita la seconda commissione consigliare per discutere l'ordine del giorno l'approvazione dello schema di accordo tra comune e società Biedembresta SRL e cinematografica estense SRL next articolo 11 legge 2.90 dichiarazione di insussistenza dell'interesse pubblico all'annullamento in autotutela dei titoli edilizi lascio la parola all'assessore la miranda per l'approfondimento grazie prego assessore grazie presidente correva l'anno 2009 quando in quest'aula venivano pronunciate queste parole io credo che qui si stia commettendo un vero e proprio abuso non sono certo io che posso sentenziare in questa sede altri lo faranno ma io credo che l'occhio nudo faccia già giustizia da sé anche in capo alla maggioranza io credo che qui si vada a sanare come scritto in delibera non un diverso uso della superficie ma si vada a sanare una cosa che già esiste sappiamo tutti cosa è successo negli anni a seguire è intervenuta una sentenza penale che ha stabilito che tra i vari interventi edilizi anche questo intervento è stato attenzionato dall'autorità giudiziaria a seguito di questa vicenda gli uffici dell'edilizia che nel frattempo erano stati rinnovati hanno avviato una procedura di autotutela volta all'annullamento del titolo edilizio conseguito tradotto alla demolizione del fabbricato che nel frattempo era stato realizzato un fabbricato che secondo la maggioranza dell'epoca doveva avere questa finalità costruiamo un elemento importante per il quartiere non è un'operazione leggera però darà uno spazio di socialità a quel quartiere darà un luogo di incontro e di ritrovo che permetterà di ricostruire delle abitudini che in quel quartiere ci sono la conclusione dell'iteramministrativo dell'ufficio dopo un contraddittorio aperto dall'amministrazione in virtù della legge 241 del 90 articolo 11 ha stabilito che questo intervento di rilevanza sociale per il quartiere avesse 330 metri quadrati di SLP di abusi di inizio in più rispetto a tutta la superficie che già era stata assentita e questo saldo esisteva nel 2009 cioè nel 2009 quando si discusse in quest'auto l'ultima delibera di aumento di volumetria l'edificio era già stato quasi completamente terminato pochi di voi c'erano a quell'epoca furono proiettate delle immagini aerosatellitari per la prima volta in quest'aula si utilizzò uno strano strumento ma fu molto efficace visivamente generò un diverso malcontente in capo alla maggioranza un po' di mal di pancia perché qualcuno dovette votare per forza comunque la delibera la sostanza è che quell'edificio realizzato in quel momento è lo stesso edificio che oggi esiste ed è lo stesso edificio su cui l'amministrazione successivamente è intervenuto con un provvedimento di abbio di provvedimento sanzionatorio l'iter fu avviato poi nel 2013 di accertamento da parte degli uffici nel 2015 è stata avviata la procedura ex articolo 11 che ha comportato la sospensione temporanea del provvedimento in autotutela di annullamento del titolo edilizio sul circolo San Giorgio contestualmente a questa operazione l'amministrazione è intervenuta su un altro elemento di criticità sempre legato allo stesso operatore perché questi due interventi edilizie cioè quello che abbiamo appena descritto e quello che adesso vi dirò cioè quello del cinema a pollo nelle more avevano generato sette contenziosi tra tribunale amministrativo e tribunale civile il contenzioso sul cinema a pollo ex cinema a pollo era che le volumetrie residuali di quell'edificio che inizialmente erano di circa 1200 metri quadrati di SLP erano state trasferite in un altro ambito anche questo guarda caso attenzionato dalla procura della Repubblica ex Carmine per cui molti di voi che c'erano invece nella scorsa consigliatura ricorderanno che è stato fatto un provvedimento analogo di chiusura anche di quell'intervento edilizio e aveva comportato l'inottemperanza in quel momento da parte dell'operatore a seguito del trasferimento dell'SLP alla riduzione a pristino dell'edificio residuale comportando conseguentemente l'attivazione anche da parte in quel caso da parte dell'amministrazione di un'ordinanza di demolizione anche in questo caso si era aperto appunto l'iter poi di contestazione il bilanciamento ha portato in quel momento l'operatore e l'amministrazione a ritenere di provare a chiudere la partita chiudendo anche contemporaneamente i contenziosi ma al tempo stesso garantendo ovviamente l'interesse pubblico perché quello che stasera viene chiesto a voi consiglieri comunali con questo voto è quello di soppesare l'interesse pubblico dell'ordinanza che presuppone l'ordinanza alla demolizione dell'edificio con l'altro interesse pubblico che è quello dei benefici a cui l'amministrazione tende attraverso il conseguimento dell'accordo ex articolo 11 quali sono gli elementi che vi vengono offerti per questa valutazione da parte dell'amministrazione sono ovviamente la risoluzione dei contenziosi che sono costosi e hanno un'alea di giudizio notevole di incertezza assoluta e ve lo posso garantire anche con cognizione di causa la monetizzazione dei mancati standard per la superficie in più costruita e non assentita il recupero alla città di un edificio l'ex cinema polo con funzione sociale perché questo è l'obiettivo che ci diamo come amministrazione il recupero e la chiusura parziale del contenzioso in essere sul terreno di via Lambro su cui avrebbe dovuto sorgere il nuovo edificio del quartiere 5 con però le problematiche collegate a questo che erano quelle della mancata bonifica e a chiusura a parziale compensazione anche l'accessione gratuita di questi beni da parte dell'operatore e anche l'ottenimento da parte dell'amministrazione delle corrispondenti residuali SLP di volumetria questo iter avviato nel 2012 è stato assai faticoso inizialmente in parte probabilmente lo dico con assoluta trasparenza ma anche chiarezza in parte per debolezza dell'amministrazione stessa nella posizione di contraente rispetto a un contraente forte sappiamo bene chi è il contraente non è il caso di ricordarlo in quest'aula i fatti li conosciamo bene ma sicuramente sicuramente si è mosso in una posizione di vantaggio e di forza in quel momento e non c'era forse una spinta propulsiva adeguata da parte dell'amministrazione probabilmente anche nella piena consapevolezza degli errori precedentemente fatti in quest'aula il 10 di luglio il signor sindaco mi ha conferito la delega anche in materia di edilizia il 17 di luglio ho riaperto la procedura che nel frattempo era stata bloccata poi per il periodo di congelamento elettorale il 24 di luglio abbiamo avuto la prima seduta con l'operatore dove abbiamo ripreso un po' il filo del discorso abbiamo rimesso in linea le cose abbiamo incominciato a cambiare però i principi che dovevano regolare la determinazione dell'SLP residual e il controvalore nel frattempo è intervenuto una legge regionale che ha in parte aiutato e non aiutato la risoluzione nel senso che ha determinato il valore di SLP dei corridoi pari a zero che era uno degli elementi in contestazione nel mese di agosto abbiamo definito con gli uffici e per la precisione il 22 di agosto con un'informativa di giunta la determinazione finale a cui gli uffici sono pervenuti della superficie in circa 330 metri quadrati di SLP in eccedenza superficie che è stata sottoposta per il vaglio finale all'operatore l'operatore ha contestato anche questa determinazione e in particolar modo il punto di disputa era il valore da noi attribuito alla OIL si è arrivati a un punto dove all'operatore è stata posta una condizione o accettava questo o io ritiravo la partecipazione all'articolo 11 e quindi si andava avanti senza risoluzione e quindi avremmo proceduto con la revoca della sospensione dei provvedimenti di demolizione e avremmo dato corso alle demolizioni di fronte a questa situazione l'operatore ha cambiato atteggiamento e ha accettato transattivamente l'SLP finale determinata appunto come vi ho detto in 330 metri quadrati di SLP che hanno comportano poi si traducono in valore economico questo valore economico corrisponde esattamente a quello che una volta ci hanno venduto come intervento a favore della collettività oggi attraverso questo accordo questa maggioranza recupera questo valore sociale che inizialmente era stato venduto ai consiglieri il controvalore economico complessivo è di 1850 1.850.000 euro diceva Puccinella i ziri non contano ma in questo caso contano e come in parte questa somma verrà versata dall'operatore in contanti 500.000 euro subito alla firma 940.000 euro in due rate assistite da una polizza fideusoria il cui testo intergale vi è stato allegato come consiglieri comunali nella presentazione della proposta di delibera anche il computo complessivo dei conteggi delle monetizzazioni a standard e delle coste di costruzione vi sono stati prospettati vi sono stati allegati nella proposta di delibera la parte residuale di SLP che invece l'operatore ci cede viene anche questa determinata come viene determinata attraverso la stima dataci dall'agenzia delle entrate perché il valore di partenza da cui siamo partiti per poi determinare conseguentemente la somma necessaria a monetizzare è stata determinata attraverso una certificazione dell'agenzia delle entrate il valore quindi di saldo tiene conto in parte appunto dell'aspetto economico e in parte dei valori identificatori che sono stati valutati in 411.000 euro nel frattempo dal mese di agosto abbiamo avviato anche la procedura di esclusione dalla VAS che era un elemento condizione e dentro 30 giorni abbiamo chiuso l'istruttoria anche da questo punto di vista da parte con la collaborazione del settore ambientale per poi a divenire il 17 di ottobre all'incontro definitivo con la controparte dove abbiamo appunto raggiunto l'accordo di massima ed il 21 di dicembre nei vari scambi di e-mail abbiamo avuto l'accettazione con atto unilaterale definitivo dell'operatore al testo finale all'accordo finale che avete trovato allegato alla proposta di delibera di transazione e alla bozza di fede di ossione a garanzia dell'intervento quello che mi preme evidenziare è che tenuto conto anche del periodo estivo in scarsi 5 mesi è stata ripresa la posizione è stata rinegoziata sono state rinegoziate alcune clausole perché abbiamo invertito un principio prima si partiva da un principio di risarcimento partendo dalla superficie condiaria abbiamo ritenuto successivamente con gli uffici che fosse legittimo e corretto invece applicare esattamente il dettato di legge e cioè semplicemente monetizzare gli standard mancati non reperiti sul quartiere in rapporto all'SLP effettivamente costruita nel quartiere è un principio più equo e che ha potuto portare l'amministrazione comunque a ottenere una somma prossima a quella che veniva determinata nel vecchio modo cioè quello del risarcimento della superficie condiaria siamo soddisfatti sì come amministrazione possiamo ritenerci soddisfatti come ufficio ci riteniamo soddisfatti sono soddisfatto io per i responsabili dell'ufficio che hanno lavorato tanti mesi sopra questa pratica con un soggetto non facile da gestire e sono soddisfatto io personalmente che nell'arco di pochi mesi siamo riusciti a portare a casa un ottimo risultato la storia è certe volte strana e il tempo è galantuomo in questo oggi è una giornata un po' strana per me perché oggi al pomeriggio sono andato all'inaugurazione del completamento dell'intero tronco di via Martiri delle Pobe dove io ero stato promotore attraverso una mozione per aver intitolato una via ai Martiri delle Pobe oggi da assessore con la delega l'edilizia chiedo a questo consiglio comunale di porre fine a un'altra pagina brutta della storia di Sesto San Giovanni il cui il sottoscritto è stato uno degli attetici perché questo è stato poi ovviamente un intervento che avevo portato in procura della Repubblica con una di luce certe volte come dico sempre la storia è strana la storia politica sicuramente di questa città negli ultimi anni è molto strana e in questo senso diciamo mi fa anche in parte piacere poter chiudere questa partita e proporvi la chiusura di questa partita perché in ogni caso comunque tutti noi riteniamo che anche da questa vicenda si debba avere una chiusura trascinare per troppo tempo in là alcune vicende non giovano agli interessi comuni non giovano alla città e soprattutto tengono aperto un'alia di incertezza che non è più possibile concedere da questo punto di vista né all'amministrazione né all'operatore stesso che ha fatto l'investimento la sintesi quindi della proposta che chiediamo ai consiglieri comunali è quella di confermare l'assenza di interesse pubblico la mancata permanenza di interesse pubblico al provvedimento di annullamento del titolo edilizio quindi la caducazione di questo provvedimento perché è contestualmente la risoluzione della convenzione in essere che aveva generato l'edificio che è stato costruito pur nella salvaguardia dei titoli edilizzi concessi dell'SLP raggiunta con il bilanciamento di quello che vi abbiamo detto la monetizzazione degli standard l'accessione gratuita del terreno di Via Lambro dell'ex cinema Apollo le cui poi ricavati delle monetizzazioni come scritto in delibera verranno sicuramente a titolo di risarcimento reimpiegate ovviamente in un progetto all'interno del quartiere Peluca questo è il quadro della richiesta che vi viene fatta poi nel dettaglio lo vedete nel dispositivo di richiesta il dettaglio perché ovviamente ci sarà anche un'acquisizione al patrimonio e quindi ci sarà necessità di aggiornare anche il piano delle alineazioni e delle acquisizioni questa in fin di conti è la proposta che vi fa questa giunta grazie grazie a lei allora apriamo la discussione consigliera Crittos è prenotata prego grazie presidente allora la ricostruzione che ha fatto l'assessore la Miranda non è che sia sbagliata però incompleta sì le sfumature a volte di alcuni passaggi velatamente politici credo che meritano da parte mia invece una evidenziazione forte politica la storia è esattamente quella che ha raccontato né più né meno ma la mia precedente la precedente amministrazione che era guidata da me ha fatto una scelta forte altro che debole assessore la Miranda nel momento in cui l'operatore è venuto da noi a chiedere la possibilità di attivare l'ex articolo 11 per chiudere tutte le partite comodo sarebbe stato rimuovere e dire lasciamo che le cose vadano che la comunità spenda soldi che ci siano sempre come lei diceva giustamente percorsi giuridici che poi hanno quasi sempre un risultato incerto ce ne laviamo le mani sarà quel che sarà e non ne discutiamo più no abbiamo fatto una scelta molto forte abbiamo detto all'operatore bene ci sediamo intorno a questo tavolo percorriamo questo percorso politicamente e tecnicamente che è stato molto lungo e faticoso è iniziato nel 2015 due anni di lavoro non è per colpa degli uffici per la lentezza degli uffici come si diceva l'operatore non è facile e cerchiamo di ottenere all'interno di questo accordo transattivo il massimo per la nostra comunità il massimo all'interno di un accordo tra le parti il massimo però forti di questo ed è la consapevolezza che noi potevamo chiedere il massimo perché era anche interesse dell'operatore che tutte le partite venissero chiuse nostro della nostra comunità perché non si spendessero risorse economiche all'infinito perché le intelligenze delle persone che qui lavorano non venissero mortificate continuamente da corsi e ricorsi ma che si chiudessero un po' tutte queste partite e anche dell'operatore che aveva tutto l'interesse a chiudere quindi una posizione molto forte altro che debole questo era come dire una parte mancante della relazione o meglio c'era era stata detta direi diversamente voi avete semplicemente preso un nostro lavoro di più di due anni e l'avete recepito e basta l'avete preso e l'avete recepito ora quello che io però critico alla parte politica ovviamente è che ci sia stato invece una debolezza in questi mesi perché nell'accordo che la precedente amministrazione che io avevo l'onore di presiedere e che abbiamo portato in giunta come uno degli ultimi atti e poi purtroppo non abbiamo potuto portare in consiglio comunale nella consapevolezza che atti così delicati non potevano essere portati ovviamente in un consiglio comunale ma veniva scritto nella nostra delibera del maggio del 2017 i conteggi erano diversi sostanzialmente la faccio come dire facile perché il tema è complicato in questo accordo di questa sera l'amministrazione comunale rispetto all'accordo portato in giunta da noi perde quasi 200.000 euro perde quasi 200.000 euro se ci sono tutti questi problemi di bilancio credo che 200.000 euro facciano la differenza l'operatore non accettava bene l'assessore la miranda la stessa cosa che dice che ha fatto adesso avrebbe dovuto farla a settembre quindi abbiamo perso sette mesi per un accordo che avrebbe già potuto essere chiuso perché ripeto il lavoro di due anni è stato fatto dagli uffici per perdere quasi 200.000 euro e a dirlo non sono soltanto io ovviamente ma sono anche gli stessi atti che vengono portati questa sera ai consiglieri quando nella relazione di presentazione della delibera di stasera si fa riferimento alla delibera del 16 maggio del 2017 quella di cui parlavo prima dove si dice cioè non mi si venga a dire che 200.000 euro in meno sono frutto di una legge regionale intervenuta perché guardate che già in quella delibera c'è un passaggio molto chiaro dice con tale relazione le società bad and best e cinematografiche estense hanno riconosciuto una maggiore SLP pari a metri quadri 433 invece di metri quadri 1.270 come determinato dal servizio in seguito all'esame delle osservazioni avanzate dagli interessati oltre agli approfondimenti normativi vista anche l'ultima legge regionale 10 marzo 2017 vista anche questa legge regionale del 10 marzo 2017 è stato possibile accogliere parzialmente il metodo di quantificazione dell'SLP complessiva dell'albergo quindi una delibera di giunta che non è che facevamo unilateralmente l'accordo col privato c'era una delibera di giunta che portava dentro nei suoi atti una quantificazione maggiore rispetto a quella che questa sera i consiglieri comunali dovrebbero noi consiglieri comunali dovremmo votare ecco quindi la debolezza gentile assessore la miranda se c'è stato c'è stata nella parte politica nel non essere stato determinato fin da determinante fin da subito a dire caro operatore c'è già una delibera di giunta noi quella la prendiamo la portiamo in consiglio comunale e quelli sono le risorse che tu devi pagare e invece sette mesi sette mesi magari scadevano anche dei tempi per cui forse partivano anche ripartivano anche gli atti per poter fare di nuovo ricorsi da parte del privato sette mesi per perdere 200.000 euro che la città lo sappia almeno un lavoro fatto di oltre due anni portato guardate su un vassoio d'argento a questa amministrazione politicamente ma anche economicamente di cui io però rivendico personalmente di averlo voluto fare in una posizione di forza rispetto all'operatore che ha chiesto di poter accedere all'esercizio dell'ex articolo 11 ma a quel tavolo ci siamo messi alla parte a quel tavolo ci siamo messi alla parte l'abbiamo portato avanti fino a quando abbiamo potuto ci siamo firmati un momento prima perché a ridosso delle elezioni comunali ovviamente questo non era un atto ma ricordo e lascio come riflessione i miei colleghi della maggioranza subito dopo aver approvato questa delibera di giunta noi siamo andati in quartiera ad illustrarla come giunta siamo andati nella piazza del quartiere quella nuova ad illustrarla e a prenderci un impegno e a dire noi abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare avrei voluto molto volentieri riuscire essere riuscita a finire la prima non ce l'abbiamo fatta ripeto ma l'operatore come diceva giustamente l'assessore a Miranda non era un operatore facile l'abbiamo portata fino a qui chiunque vincerà spero che la porterà avanti dopo ma l'impegno politico nostro detto davanti a tutti i cittadini è che le risorse che arrivano da questo atto ricadranno interamente sul quartiere e di cose quel quartiere ne ha da fare a partire dalla riconificazione dell'asilo Montessori piuttosto che di un'altra serie di cose che conoscete anche voi perché l'avete frequentato il nostro impegno pubblico era quello e noi quell'impegno pubblico lo ribadiremo questa sera attraverso un ordine del giorno perché noi questo atto ripeto l'abbiamo preparato ci abbiamo lavorato ci abbiamo anche sudato politicamente non è stato facile altro che debolezza rivendico tutta la forza di quella decisione e la forza di un percorso assessore la Miranda mi spiace però mi spiace però che in sette mesi si siano persi 200.000 euro motivo per cui io sulla delibera grazie consigliere a tutti do la parola al consigliere di Cristo grazie presidente soltanto per l'annotazione ringraziamo il lavoro dell'assessore non possiamo non rilevare delle criticità anche noi se non fosse che per esempio quella anche per ideologia dove si dice per esempio ritenuto che al punto 2 la trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà riguarda la SLP legittimamente realizzata è quella che pur non conforma PRG per noi già basterebbe questo per evidenziare che comunque c'è voglio parlare di un condono una sanatoria ma diciamo che in questa occasione in tutta questa vicenda è ovvio che in qualche maniera è andata bene all'operatore ma questa non è sicuramente una colpa ascrivibile a questa amministrazione si chiude quello che è da rilevare ritengo che sia giusto sottolineare si chiude una vicenda anche triste per la città io vedemmo l'origine anni fa qualcuno non voleva vedere quando iniziò la questione non volle vedere subito le criticità e fu necessario fare anche atti forti io apprezzo l'intervento dell'ex sindaco Tittò che oggi rivendica la forza di un atto di chiedere conto a un operatore politicamente non posso non sottolineare però la debolezza dell'aggiunta che era preceduta rispetto all'operatore perché questo lo devo sottolineare per onestà intellettuale e politica e forse lungi da me fare l'avvocato difensore dell'assessore la Miranda che già di mestiere fa l'avvocato e per di più agiamo politicamente su schieramenti opposti forse a questo che si riferiva quando parlava di debolezza probabilmente era malespresso ma voglio pensare che sia stata questa io apprezzo anch'io personalmente l'operato dell'aggiunta precedente perché bisogna riconoscerlo che comunque seppur in una posizione difficile vediamo se è più chiaro così una posizione politica ma difficile perché comunque sappiamo tutti quello che è successo a Sesto e anche con non voglio usare il termine ma con la complicità non voluta pienamente voglio metterla così di chi non ha voluto vedere subito e per cui si è creata una cicatrice profonda che oggi finalmente abbiamo sanato che questa aggiunta ha portato a termine sicuramente l'altra criticità è giusta correttamente i 200.000 euro che questa comunità perde che la città di Sesto perde io faccio molta fatica ad additare colpe in tutta questa situazione se non solo a chi ha permesso l'origine di questa cosa e allora parliamo anche di debolezza e sì probabilmente si poteva fare di più e allora facciamo come la delibera precedente sicuramente si sarebbe potuto fare di più sicuramente l'operatore è un operatore difficile l'abbiamo detto e l'abbiamo voluto classificare in questa maniera diciamo che in tutto questo è andata bene in qualche maniera siamo tutti contenti è andata bene soprattutto all'operatore mi preme sottolineare però due cose io su questo ho preparato anche un ordine del giorno che è uno dei punti è uno dei quartieri che più ha sofferto assieme a tutta la città il quartiere Falk dove io appunto con questo che poi andrò a illustrare all'ordine del giorno chiedo che vengano impiegate le risorse economiche che con questo provvedimento qualora venga licenziato andiamo a recuperare come città e soprattutto chiedo di iniziare già a pensare magari tutti assieme su un percorso condiviso la funzione o quale funzione possiamo dare a quello che viene definito oggi perché di fatto è un dente cariato scusatemi la figura la raffigurazione in questa maniera di un contenitore vuoto a quale è stata sottratta anche SLP che ci troviamo in pieno centro a Sesto e mi riferisco all'ex Cinema Poll che tra altre cose in commissione abbiamo anche chiesto eventualmente quali potrebbero essere gli impieghi futuri per un utilizzo adibito a pubblico e tra altre cose lì abbiamo anche un vincolo l'assessore ci ha fatto sapere ma è noto a tutti chiunque passi di lì può vederlo abbiamo anche dei vincoli di sagoma che non è che permettano di fare chissà quali grandi progetti per cui abbiamo una struttura svuotata in pieno centro a Sesto abbiamo un quartiere martoriato abbiamo una città che ha sì oggi un indennizio e finalmente si chiude un'annosa questione triste triste sia economicamente ma anche moralmente per questa città e per cui io non mi sento che che fare altro che comunque al di là dei meriti e dei demeriti di queste ultime due amministrazioni perché qualora vogliamo vedere le responsabilità e io c'ero vanno ricercate un po' prima forse e che è giusto riconoscere abbiamo chiuso una vicenda sarebbe auspicabile che tante altre vicende fossero state chiuse in questa maniera e tante cicatrici profonde abbiamo lasciato su questo territorio chi doveva cercare i responsabili l'ha fatto qualora la legge lo permetteva le varie prescrizioni l'hanno permesso o meno io mi rendo solo conto che parecchi danni fatti a questa città sono andati avanti per troppo e lungo tempo anche con la complicità e soprattutto con la complicità della politica tutta sia magari da parte nostra che eravamo all'opposizione che non siamo stati così forti da fare provvedimenti più drastici e da stimolare provvedimenti più drastici se non quelli di portare gli atti in procura laddove era necessario ma soprattutto con chi all'epoca aveva la responsabilità di governare e ha tradito questa città grazie Presidente grazie del Consigliere di Cristo do la parola al Consigliere Piano grazie Presidente ma io ho ascoltato l'assessore l'assessore la Miranda in commissione ho ascoltato l'intervento la relazione che ha fatto questa sera ho ascoltato il Consigliere di Cristo ho ascoltato la consigliera Chittò condivido alcune parti degli interventi di tutti e altre invece non li condivido partirei però diciamo dalle vicende giudiziarie perché per mia formazione io sono garantista e lo sono per mia formazione sono garantista e lo sono a 360 gradi nel senso che rispetto ai temi delle sentenze trattate stiamo parlando di sentenze di patteggiamento io appartengo a quella scuola di pensiero che ritiene che non si tratta necessariamente di un riconoscimento di responsabilità non entro nel merito perché faccio l'avvocato ma le dinamiche che possono portare diciamo ad una scelta processuale di quel tipo possono essere le più diverse poi ci sono altre sentenze di merito che dicono altre cose per cui diciamo non mi voglio imbattere nella vicenda giudiziaria ma ho profondo rispetto per le persone che comunque sono state coinvolte così come per la città che ha dovuto subire questi procedimenti che ci hanno portato alla ribalta delle cose devo dire che ho apprezzato dell'intervento della consigliera Chittò il fatto che lei abbia ripercorso la storia di questa di questa vicenda diciamo che ha interessato l'amministrazione comunale io l'ho vissuta solo in parte però posso dire che e sono quegli elementi di ricucitura silenziosa e preziosa che c'è stata nell'amministrazione anche se non abbiamo sempre condiviso tutto però il lavoro del sindaco è stato proprio quello di mettere a sistema questi questi procedimenti queste procedure assai complesse che probabilmente l'hanno anche distratta da un'attenzione più mediatica da cui adesso siamo costretti ad assistere quotidianamente perché c'è stato un lavoro prezioso alle spalle che oggi consente di arrivare alla definizione di questo percorso ed è stato un percorso devo dire proprio trasparente per quello che ho potuto leggere per quello che ho potuto vivere professionale distaccato e finalizzato al raggiungimento di un obiettivo nell'interesse della città oggi diciamo si può raccogliere quel frutto cosa non non condivido nel merito però è un merito più politico che poi rientra anche nell'opportunità alcuni scambi che sono presenti nell'accordo poi bisognerebbe vivere la dinamica quotidiana delle trattative per capire qual è il punto di cadute è il risultato raggiungibile però io inizialmente ma lo sono tuttora sono profondamente contrario all'acquisizione dell'area di Via Lambro lo dico in modo molto franco perché primo perché non conosciamo che cosa ci stiamo mettendo nella pancia perché non c'è un piano di caratterizzazione perché quell'area va bonificata per cui il valore di scambio di quel bene può rappresentare un'incognita per l'amministrazione comunale anche se poi l'assessore Lamiranda ci ha spiegato in commissione che sicuramente o con molta probabilità quell'area sarà destinata a parcheggio per cui la superficie da bonificare sarà ridotta ma certamente abbiamo acquisito diciamo una porzione di terreno al buio cosa che normalmente è bene non fare l'altra cosa l'altro elemento di perplessità riguarda la destinazione del cinema a pollo perché perché di fatto quella struttura non era più utilizzabile non lo sarà ancora sarà una struttura che viene spogliata addirittura della SLP residua che francamente è risibile rispetto a qualsiasi possibilità di intervento e su cui l'amministrazione non avrà nel breve nel medio periodo le risorse per intervenire questo è un problema che dobbiamo porci perché abbiamo un altro edificio abbandonato che insiste nel contesto cittadino e su cui qui richiamo ancora il tema della visione perché secondo me questo accordo doveva portarsi dietro anche un elemento di riflessione sulla destinazione d'uso di quell'area e forse parte delle risorse che noi andiamo ad incamerare oggi potevano già essere destinate all'opera di riqualificazione dico questo perché perché io lo dico con molta franchezza non mi trovo d'accordo sul principio del risarcimento al quartiere non mi trovo assolutamente d'accordo credo che ma lo dico come dire pubblicamente che l'intervento di riqualificazione dell'albergo abbia portato un valore aggiunto in quella zona è un servizio in più allora pensare che quel quartiere sia stato danneggiato da quell'intervento edilizio è un errore il tema semmai può riguardare quelle opere di urbanizzazione che dovevano essere realizzate ma che non sono state realizzate e che dal mio punto di vista sono anche state mal negoziate lo dico perché c'era una struttura che doveva insistere nell'albergo io non sarei stato d'accordo lo dico perché doveva essere realizzata la casa del quartiere in una zona da bonificare di cui probabilmente l'imprenditore era consapevole però il tema di pensare che oggi con i problemi finanziari che abbiamo tutte quelle risorse debbano ricadere su quel quartiere mi sembra come dire un'affermazione un po' eccessiva poco prudente dal punto di vista amministrativo molto enfatica molto ad effetto per coloro che vivono allora l'invito io ho sentito l'assessore Lamiranda in commissione il quale ha detto ma come dire non con una certezza assoluta che la prima tranche di coi 500 mila euro saranno ragionevolmente no investiti sul quartiere poi c'è un residuo in città ci sono tante priorità è un po' come il tema degli oneri di urbanizzazione che ricadono sulle aree fanca pensare a un'equa distribuzione di quelle risorse può avere un senso una ragionevolezza e una sostenibilità diversa e condivido anche il fatto che il tempo trascorso poi non abbia consentito di raggiungere quel risultato a cui era approdata l'amministrazione guidata dal sindaco Chittò quindi dobbiamo registrare questa perdita di 200 mila euro che credo ci debba far riflettere poi comprendo anche che tra i tempi di insediamento la ripresa delle questioni vi sia stata anche una certa una certa complessità però questo è anche un tema di riflessione ulteriore che rimane che rimane diciamo agli atti di questo consiglio comunale francamente faccio fatica a capire questa acquisizione al buio dell'area di via l'ambro mentre mi piace molto questo approccio amministrativo che va in continuità rispetto a un'inversione di rotta adottata dall'amministrazione precedente che ha deciso di intraprendere un percorso tecnico professionale trasparente ancorando addirittura la valutazione dei diritti di superficie così come degli altri beni a un organo terzo quale poteva essere l'agenzia del territorio io credo che quello sia un modello da seguire anche per il futuro però dobbiamo riconoscere francamente che il solco è stato tracciato ma non per una questione di paternità ma proprio per una questione di onestà intellettuale è stato tracciato da un'amministrazione di centro-sinistra che è stata capace di rigenerarsi e che da questo punto di vista ha fatto un lavoro davvero importante che poi vi ritroverete anche in altri atti al di là delle polemiche politiche lascio a voi le valutazioni rispetto ai destini di questa delibera io annuncio già che rispetto alla votazione finale mi asterrò mi asterrò per le motivazioni che ho detto mi asterrò perché rimane ferma la mia perplessità che avevo già allora sull'acquisizione della porzione del terreno di Via Lambro rimane ferma la mia perplessità di lasciare un altro immobile dismesso rimane ferma la mia perplessità di aver perso 200 mila euro pur condividendo e apprezzando il percorso che passa dalla giunta Chittò alla giunta di Stefano devo dire con una trasparenza assoluta grazie grazie a lei consigliere Piano do la parola alla consigliera Di Pietro grazie presidente sarò super breve per non ripetere cose già dette faccio mie alcune preoccupazioni che sono già state sottolineate da chi mi ha preceduto però vorrei anch'io soffermarmi è chiaro che questa proposta di delibera effettivamente si chiude un percorso difficile che ha lasciato il segno e che credo non possa che fare come dire contenti tutti nel senso che si arriva finalmente a chiusura di una pagina così discutibile e sicuramente triste della nostra città riconosco il merito a questa amministrazione per essere riuscita a chiudere un percorso già iniziato quello di cui mi preoccupa è la parte che riguarda l'ex cinema Apollo nel senso che io da un lato sono contenta che l'amministrazione ritorne o torne cioè venga in possesso di questo bene chiamiamolo così anche se mi verrebbe dire altro vorrei che rispetto a questo ci fosse breve il tempo per cui possa nascere un progetto di riqualificazione che sarebbe di riqualificazione non soltanto appunto dell'immobile ma di una parte diciamo di quel quartiere perché io lo frequento abbastanza devo dire perché mio figlio va a fare un'attività sportiva proprio dietro il cinema Apollo devo dire che salire il scale di quello che portano appunto lassù devo dire è veramente una pena quindi mi auguro che a breve si possa riprendere il discorso anzi iniziare un discorso di ecco sì di riqualificazione qui la parola rifunzionalizzazione non sarebbe appropriata proprio di riqualificazione e di restituzione sì alla città di questo come dire spettro perché questo ormai è di questo si tratta e questo è rimasto dell'ex cinema Apollo per quanto riguarda l'area di via Lambro qualche possibilità ce l'ho però l'assessore ci ha spiegato del progetto che su quest'area è già diciamo in itinere e quindi va bene diciamo che una parte di preoccupazione può essere rientrata mi auguro che questo non crei comunque ulteriori problemi soprattutto dei costi a carico dell'amministrazione considerando che la bonifica su quell'area non era stata fatta poi l'assessore ci ha spiegato ovviamente qual è l'idea di questa amministrazione e quindi ne prendo atto e a fronte di questo però dobbiamo anche prendere atto che quell'area su cui avrebbe dovuto essere creato diciamo un immobile da destinare al quartiere diciamo viene meno quindi viene meno qualcosa che al quartiere avrebbe dovuto essere dato in virtù di questo visto che anche nella delibera tra l'altro è previsto è preso come impegno quindi di utilizzare i corrispettivi che le società verseranno al comune per il perseguimento di effettive più concrete finalità di interesse pubblico ovviamente con particolare riferimento al quartiere Falc è stato presentato anche da noi un ordine del giorno dove si chiede che l'intera somma venga destinata al quartiere perché è un quartiere che ha bisogno di grossi interventi uno per tutti l'aveva già citato la consigliera Chittò la Dile Montessori ma non come risarcimento al quartiere io sono anche d'accordo sul fatto che l'arrivo dell'hotel abbia portato abbia rivitalizzato la zona perché è un hotel che tra l'altro fortunatamente funziona lavora e quindi sicuramente ha rivitalizzato quella zona però ripeto non è sufficiente non è abbastanza per i bisogni di quel quartiere anche perché ripeto un impegno che si era preso è venuto meno quell'area adesso viene destinata ad altro quindi non tanto appunto ripeto come risarcimento ma come una diciamo così una continuazione nella rivitalizzazione e nella ristrutturazione di un quartiere che è tra l'altro storico perché parliamo di un villaggio storico che fa capo ancora al villaggio di operai giusti della Falc e quindi non soltanto perché ci piace diciamo così mantenere la memoria storica ma perché comunque ha un valore diciamo di storicità così come altre parti della nostra città quindi sulla delibera sinceramente io comprendo anche quello che è stato letto dalla consigliera Tittò la perdita di 200 mila euro però voglio essere come dire positiva e esprimere un parere favorevole perché ripeto voglio sperare che soprattutto per quello che riguarda il sia diciamo il quartiere Falc sia per quello che riguarda il cinema ex Apollo che l'amministratore si impegni al più presto a presentare un progetto che possa in qualche modo diciamo così restituire veramente una parte di città alla comunità grazie consigliere Di Pietro do la parola al consigliere Ghezzi sì grazie presidente solo un paio di note tecniche in merito ai 200 mila euro bisogna precisare molto velocemente sarò stringatissimo che l'operatore ha approvato con atto d'obbligo solo ad ottobre e la legge regionale è entrata in vigore nel luglio 2017 parliamo sempre del 2017 pertanto i 200 mila euro saltano fuori dallo scomputo relativo ai locali tecnici conseguenti alla legge regionale quindi questo bisogna chiarirlo sotto poi relativamente all'intervento del consigliere Piano è stato spiegato in commissione quello che è una progettualità relativa a Via Lambro che andrebbe nell'integrazione di un piano più allargato relativo al T5 quindi a tutta la riqualificazione di quella zona quindi con un beneficio anche a livello delle diciamo così delle casse comunali perché comunque la riqualificazione proposta avrebbe un utilizzo sociale a basso impatto economico per le bonifiche che verrebbero limitate a seguito appunto della scelta di destinazione quindi questo è stato trattato poi sulla questione del cinema Apollo si concordo bisognerà sicuramente pensarci fare vedere bene ed è stato detto anche questo in commissione quindi c'è tutto il focus da parte dei tecnici da parte dell'assessorato e anche mio sul fatto di riuscire a dare un'assegnazione sociale di interesse al quartiere grazie grazie a lei consigliere se non ci sono altri interventi sono stati presentati due ordini del giorno facciamo gli ordini del giorno prima gli ordini del giorno e poi gli emendamenti ok allora stavo dicendo sono stati presentati due ordini del giorno il primo il movimento 5 stelle prego consigliere di Cristo sì grazie presidente a questo ordine del giorno una volta non mi trovo d'accordo il consigliere Piano forse la terminologia può essere sbagliata di risarcimento al quartiere Falco però il quartiere Falco è un quartiere che purtroppo per vari motivi reputo ma anche gli abitanti che abitano lì lo sanno che per vari motivi spesso e volentieri è stato dimenticato sicuramente l'inserimento di un albergo in quel quartiere ha si rivitalizzato quell'area ma non si può parlare che sia stato fatto un intervento che abbia costituito un intervento di riqualificazione ha sicuramente rappresentato quella che si suol dire una goccia nel mare io reputo che il quartiere meriti di più non è un risarcimento ma è un completamente a quello che più volte gli è stato promesso e che purtroppo per vari motivi non è riuscito a ottenere rimanendo dimenticato come fanalino di coda nell'ambito di questa città l'ordine del giorno la faccio breve è la proposta di impegnare il sindaco e la giunta ad investire almeno il 50% quindi almeno non vuol dire il 50% ma non meno del 50% poi forse di più nulla lo vieta delle risorse rinvenenti dalla sottoscrizione dell'accordo nel quartiere Falc soprattutto secondo percorsi condivisi e partecipati con i cittadini residenti quindi coinvolgendo i cittadini residenti e facendoli partecipare attivamente a quelle che sono le progettualità e le esigenze per il quartiere e almeno il 50% mi sembra è dovuto non sto a mercanteggiare sulla cifra voleva essere quantomeno un punto fermo che almeno abbiamo una garanzia quantomeno questa volta che ci impegniamo tutti seriamente affinché investiremo su quel quartiere poi fosse di più ben venga non ho quantificato la cifra di più perché è ovvio che deve scaturire da un progetto organico raffrontato con le reali esigenze del quartiere che poi se vorrà essere una progettazione condivisa dovranno essere residenti a evidenziare le necessità del quartiere stesso per cui dobbiamo far coincidere queste due cose era indicativo ed era un impegno politico di investire almeno il 50% di quello che andiamo a monetizzare a recuperare con questa con quella sottoscrizione dell'accordo grazie presidente grazie a lei consigliere di Cristo se non ci sono altri interventi allora pista popolare per sesto piano Alessandro prego per dichiarazione di voto sì io non sono d'accordo perché come dire vorrei avere un approccio meno ideologico cioè pensare all'amministrazione nel suo complesso e da questo punto di vista conoscendo un po' la situazione per dire del settore lavori pubblici in generale la ricaduta di queste risorse all'interno dell'amministrazione comunale potrebbero essere ripartite ad esempio su tutto il patrimonio stradale adesso non c'è l'assessore ai lavori pubblici ma comprendo le difficoltà noi abbiamo una spesa storica di un milione e mezzo due milioni per manutenere le strade e negli ultimi anni sappiamo quali poche risorse c'erano ora con questa eh quest'anno ci siamo con questa diciamo con questi chiari di luna immaginare di fare una cosa proprio focalizzata lì o di porre un tetto vincolando l'amministrazione la trovo poco prudente quindi voterà contro grazie consigliere piano insieme con Monica Chetò consigliera di Pietro Stefania grazie noi votiamo a favore anche perché si allinea all'ordine del giorno che abbiamo presentato anche noi che tra poco presenteremo cambiano i termini degli importi però nel merito e nella sostanza siamo assolutamente favorevoli cittadini per sesto consigliere Aiosa grazie presidente noi voteremo contro sposando in pieno il concetto che ha espresso poc'anzi il consigliere piano ma anche per un altro motivo la motivazione in sé quando la consigliera Chetò prima diceva che dopo aver fatto la delibera a maggio era andata nel quartiere a dire che comunque tutto quello che sarebbe stato recuperato da questa partita sarebbe stato reinvestito nel quartiere stesso ma perché il quartiere ha un'esigenza che non è legata comunque a quello che andiamo a deliberare stasera i marciapiedi scoppiati perché le piante comunque hanno fatto scoppiare tutti i marciapiedi non è una roba riconducibile non è una cosa un evento riconducibile a quello che andiamo a deliberare stasera così pure le piante che non vengono tagliate da dieci anni che intasano tutte le grondaie e che tutti gli anni costringono quelli che abitano nelle case a pagare l'impresa che venga a pulire non è una cosa legata a questa quindi io credo che vanno fatti gli interventi che servono come ha detto l'assessore in commissione verrà valutato e verranno destinati le giuste risorse ma dire tutto viene rimpiegato lì come risposta a non lo condivido quindi voteremo contro grazie consigliere della parola lista di Stefano Sindaco Tannasio Tullio grazie presidente il nostro voto è contrario lista Caponi Sindaco Pogliaghi Federico intervengo io prego il nostro voto è contrario per le argomentazioni che ha ben descritto il consigliere Piano grazie grazie Lega Nord consigliere Pasquinelli grazie presidente il nostro voto sarà contrario Forza Italia consigliere Cozza anche noi ci troviamo d'accordo con le argomentazioni illustrate dal consigliere Piano il nostro voto sarà contrario grazie Partito Democratico consigliere Perego Roberto sesto nel cuore Buonasera presidente la nostra lista esprime parere contrario grazie mettiamo in votazione l'ordine del giorno apro la votazione chiudo la votazione consigliere Iosa no presidente mi scuso io ho sbagliato a votare evidentemente anche perché presento l'omendamento non mi astengo sul mio emendamento mi scuso per l'errore ovviamente sono favorevole quindi il voto favorevole ovviamente è mio favorevole sei favorevoli sei favorevoli sei ci sono anch'io eh prego favorevole favorevoli sei poi contraria contraria 14 non vale la steluta favorevoli sette contraria 14 odg respiro passiamo al secondo ordine del giorno presentato da Stefania di Pietro prego lo presento io in realtà la lista civica e il PD eh vabbè sostanzialmente la mi allineo quanto già detto dal consigliere di Cristo visto che anche l'ora tarda noi abbiamo ulteriormente chiesto un impegno ulteriore addirittura dell'intero ehm corrispettivo previsto nella delibera in oggetto quindi è un impegno ancora più forte giusto brevemente per rispondere alla consigliera Iosa ho capito che gli interventi che lei dice non sono oggetto non sono riconducibile immediatamente alla delibera però voglio dire possiamo usare i soldi per intervenire anche su quello giusto per però capisco in ogni caso mi taccio grazie consigliera sì allora lista popolare per sesto consigliere Piano prego no oh scusi 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 consigliere consigliere chitto prego ok no allora ehm ci tenevo a evidenziare il fatto che la proposta è nata dal partito democratico insieme alla lista civica eh guidata da Stefania Di Pietro non è una proposta che va politicamente nella direzione del risarcimento che sia chiaro perché politicamente è un passaggio molto importante è una proposta primo personalmente perché c'è un impegno nei confronti di un quartiere che è stato coinvolto in tutto questo percorso fin dal 2015 e per me in politica ancora oggi le parole hanno un senso la credibilità ha un senso non è che sono andata soltanto a maggio a dire questa cosa quando abbiamo iniziato il percorso nel 2015 uno dei primi incontri che ho fatto è stato proprio nel quartiere e questa è stata una cosa che mi è stata chiesta ma non come risarcimento visto che state discutendo di una cosa che agisce principalmente sul nostro quartiere portate il nostro quartiere all'interno della discussione pubblica cittadina ma non soltanto per le piante o per i marciapiedi allora parliamo di luoghi di socialità di aggregazione di luoghi che creano identità bene lì c'è una struttura che va riqualificata nella quale tutto il quartiere si riconosce perché è stata abbandonata non poi tantissimi anni fa e molti ancora si ricordano si parte da lì perché questo ci chiedevano per ridare come dire una vitalità al quartiere la scelta di questa amministrazione è quella di utilizzarli mettendoli nel bilancio comunale per asfaltare le strade bene andremo a dire al quartiere questa cosa è una scelta non è una scelta giusta sbagliata è una scelta quest'anno le strade si asfaltano con un'operazione politica iniziata da noi e mi auguro che ne facciate altrettante voi per poter asfaltare ogni anno le strade ma che abbiano questa ringrazio il consigliere che hanno questa trasparenza e questa forza anche politica perché di risorse in più non ne arrivano e conuni ecco voglio dire mettiamoci tutti purtroppo il cuore in pace ma di risorse in più non ne arrivano anzi ce ne saranno sempre di meno come è successo da tanti anni in questa parte quindi questa è anche un'opportunità per rimettere diciamo così a nuovo un pezzo di città non piccola dove ci abitano circa 20.000 persone ridargli come dire una uno splendore che è dato anche dalla sua storia perché quello è un villaggio tutelato lì le persone come dire nel momento in cui devono risistemare le loro case sapete bene che sono anche vincolate da alcune secondo noi giustissime regole date da un piano del colore del ripristino delle facciate ma tutto ciò va a beneficio di una città che tutti continuano a dire brutta 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 insomma allora qualcosa di bello c'è sì il fatto stesso che si sia riqualificata Villa Pelucca che è lì vicino cioè ecco allora finalizziamo quelle risorse poi magari sono troppe va bene meglio poi il resto perché è un'altra parte della città cioè non è che ci vede contrari questo ma finalizziamolo per trovare una soluzione che la sistemi in modo come dire organico armonioso omogeneo sì anche la questione delle piante ma guardate scusate cioè non capisco allora questa delibera non parla delle piante delle piante di viaggio falco ma non parla neanche dell'asfalto della strada come si è come dire in modo molto entusiasta lasciato sfuggire l'assessore e la miranda non stiamo parlando di questo non è che stiamo portando questa delibera perché dobbiamo asfaltare le strade noi portiamo questa delibera qui ci siamo arrivati fino ad oggi perché volevamo smetterla di continuare a litigare con un via con avvocati tribunali eccetera eccetera tutto quello che abbiamo detto prima e chiudere politicamente tutta una serie di contenziosi se tutto ciò viene ridotto a un asfaltamento di strade beh ragazzi eh avrò capito male io avrò capito male io quindi non si non si discute di questo sono d'accordo ma non si discute a tutto tondo di questo quindi ovviamente il nostro voto sarà favorevole grazie consigliere Akito quindi se non ci sono altri interventi vista popolare per sesto piano Alessandro prego signor Presidente io sono ovviamente contrario per una questione di realtà insomma di concretezza rispetto a questo tema credo che la proposta sia molto forte suggestiva ma che non abbia la possibilità di trovare concretamente il sfogo alla luce di quella che è la situazione contabile dell'amministrazione comunale in particolare questa ma in generale per tutti gli enti locali non credo che nessun buon padre di famiglia potrebbe permettersi di fare un'azione di questo tipo fermo restando l'impegno del quartiere che comunque deve trovarsi un luogo di eh come dire un luogo di aggregazione che effettivamente manca segnalerei anche che è il problema dei trasporti pubblici perché iniziamo a dotarli magari di una linea che serva quel quartiere con la metropolitana forse partiamo dalle cose piccoli per poi dopo immaginare progetti un po' più suggestivi che oggi non credo che possano trovare cittadinanza in questa in questa realtà grazie grazie a lei consigliere cittadini di sesto consigliera Iosa prego siamo contrari grazie grazie a lei insieme per Monica Chetò di Pietro Stefano è vero che come dire scusi no 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 ma è scontato il voto favorevole no però volevo visto che l'ho presentato direi di sì sarei se no faccio prima il consigliere di Cristo che si confonde no adesso a parte le battute quello che voglio dire è vero l'importo può sembrare tanto però ci tengo a precisare intanto nella delibera si parla di pagamenti rateizzati quindi può anche darsi che pur impegnando l'intera somma e cominciando a incassare le somme piano piano ci si renda conto che poi l'importo può essere anche come diceva prima la consigliera Chetò anche eccessivo si è sempre in tempo a tornare indietro però intanto partiamo vincolando diciamo quell'importo per il quartiere per tutto quello che è stato detto fino adesso quindi il nostro voto è favorevole ovviamente grazie consigliera Movimento 5 Stelle consiglieri di Cristo sì grazie Presidente e concettualmente i due ordine del giorno sono sulla sulla stessa linea cambiavano le cifre ma il principio è sempre quello invece riteriamo che si doveva partire proprio da quel quartiere fatto salvo poi estendere gli interventi pubblici sul resto della città per cui il nostro voto ovviamente è favorevole grazie consigliere di Cristo lista di Stefano Sindaco consigliere Attanasio Tullio grazie Presidente il nostro voto è contrario lista Caponi Sindaco consigliere Pogliaghi Federico grazie Presidente il nostro voto è contrario Lega Nord consigliere Pasquinelli grazie Presidente il nostro voto è contrario Forza Italia consigliere Cozza grazie Presidente il nostro voto è contrario Partito Democratico consigliere Perego Sesto nel cuore consigliere Valsecchi grazie Presidente il nostro voto è contrario grazie chiudiamo la discussione mettiamo in votazione l'ordine del giorno 2 apro la votazione chiudo la votazione apro la votazione chiudo la votazione contraria Voti contrari 14, favorevoli 7. L'ordine del giorno è respinto. Ho votato, ho votato. Grazie. C'è un emendamento. Allora, dichiaro che alla delibera in oggetto è stato presentato un emendamento. Do la parola alla consigliera Roberta, no, la Miranda. E sono abituato a chiamare Roberta Pereco. A quest'ora glielo perdoniamo. È un emendamento tecnico dove introduciamo nella parte del dispositivo di delibera, al punto 3A, la seguente periodo, che è una condizione sospensiva, cioè che gli effetti di quanto stipulato e concordato precedentemente avranno effetto solo contestualmente alla stipula dell'accordo. E poi al punto 4 dove sostituiamo il periodo fatti i salvi e gli effetti con effetti. Di seguito quindi ci sono i due periodi del dispositivo riscritti e quindi la risoluzione consensuale della Convenzione stipulata in data 1 dicembre 2005 e la risoluzione della Convenzione stipulata in data 2 ottobre 2009 avranno effetto contestualmente alla stipula dell'accordo, ovviamente si fa riferimento dell'accordo transattivo all'articolo 11. E poi di aggiornare il piano delle alienazioni immobiliari dell'ente in conseguenza di quanto disposto al precedente punto 2b con effetti di variante urbanistica essenziali dell'articolo 95 bis della legge regionale 12.2005 richiamata in premessa. Grazie Assessore. Passiamo alla dichiarazione di voto per l'emendamento. Se non ci sono prenotazioni. Passiamo alla votazione. Apro la votazione. Chiudo la votazione. Consigliera Iosa. Favorevole. Consigliere Leo. Astenuto. Con 14 voti favorevoli. Astenuti 7. L'emendamento è approvato. Bene. Passiamo alle viste. A prima delle creazioni di voto. Vuole puntualizzare. Vuole puntualizzare Assessore. Grazie Presidente. Giusto in merito all'intervento della consigliera Chittò che mi fa specie che poi sia andato a ruota il consigliere piano che di solito le carte le legge. l'imprecisione è che non è vero che con l'azione dell'amministrazione dell'Aggiunta di Stefano perdiamo 200 mila euro. perché in realtà la determinazione cui lei fa rimedimento e poi la determinazione di 200 mila euro spiegherà da dove la tratta. in realtà determina una superficie complessiva all'11.4.2017 quando la legge regionale ancora non era entrata in vigore. Tanto è vero ciò che la stessa ufficio con gli stessi rappresentanti determinano poi, fanno riferimento, che la precedente relazione di servizio del 15 maggio 2017 che si allega alla presente a farne parte integrante, integrata poi successivamente con la nota della società Bed & Best e cinematografica estense del 2 agosto 2017 con la quale in seguito all'entrata in vigore della legge regionale di cui al punto precedente ha formulato le nuove ostanze e osservazioni di riduzione della superficie da determinarsi. Quindi è evidente che alla determinazione che ha fatto riferimento lei non è assolutamente vero che era stato raggiunto l'accordo. Tanto è vero ciò che manca l'atto d'obbligo che perviene solo ad ottobre 2017, in conseguenza di ciò, in assenza del quale, come molti sanno, non era stato ancora concluso con effetti vincolanti per le parti l'accordo negoziale. Aggiungo che se avessimo dovuto mantenere il principio di calcolo precedentemente adottato dall'amministrazione, la perdita, seguendo appunto l'applicazione Tucur della legge regionale che non generava più superficie SLP per quanto riguarda i corridoi, si sarebbe aggirato intorno ai 400 mila euro. Tuttavia appunto riprendendo, come avevo detto prima, nella relazione la modalità in modo diverso di calcolo, cioè dalla superficie spondiare spostandoci invece al conteggio degli standard complessivi dell'SLP generata, la reale perdita rispetto a un'ipotesi ante entrata in vigore della legge regionale è di circa 150 mila euro. Ora, imputare a noi, questo è un po' troppo da questo punto di vista, perché potrei dire che potevate chiudere l'accordo molto prima rispetto a quello. Io dico semplicemente e ho registrato che in base al momento storico in cui sono arrivato, sette giorni dopo che mi sono insediato ho preso in mano la questione, ho rimesso in ordine, perché tra panenze anche la convenzione è stata in parte modificata, ma questo ovviamente chi la conosceva se ne è reso conto, chi non la conosceva non ha potuto rendersene conto, ma in conseguenza di ciò, in tre mesi sostanziali di operatività, a ottobre siamo riusciti a ottenere il primo atto d'obbligo, cui poi sono seguite le integrazioni necessarie della fideiussione e della correzione di alcuni passaggi dell'atto di convenzione, ma la sostanza del vincolo SLP e monetizzazione di questo LP è avvenuta sostanzialmente con la determinazione di agosto, dopo l'entrata in vigore, e l'atto d'obbligo di ottobre. Volevo precisare solo questo. Grazie, Assessore. Procediamo alla dichiarazione di voto della delibera cos'è mandata. Lista popolare per sesto, Consigliere Piano Alessandro. Astenuto per le ragioni già esposte nell'intervento. Insieme con Monica Chittò, Consigliere Di Pietro Stefania. Sì, grazie Presidente. Allora, voto favorevole. Ci tengo una cosa velocissima. Faccio, visto che il consigliere Ghezzi l'ha detto stressamente, quindi, come si dice, le sarò alle costole per quanto riguarda l'ex Cinema Pollo e anche alla Sra. La Miranda, ovviamente. Quindi, lo prendo come impegno personale, visto che voto favorevolmente alla delibera. Però, l'ultima cosa, io mi sento di dire un grazie agli uffici che sono rimasti qui con noi fino a quest'ora e per il lavoro che avete fatto. Grazie. Grazie. Cittadini di Sesto, Consigliere Ariosa. Grazie, Presidente. Il nostro voto è favorevole. Movimento 5 Stelle, Consigliere Di Cristo. Grazie. Lista di Stefano Sindaco, Consigliere Attanasio. Grazie, Presidente. Il nostro voto è favorevole. Lista Caponi Sindaco, Pogliaghi Federico. Grazie, Presidente. Il nostro voto è favorevole. Chi? Lega Nord, Consigliere Pasquinelli. Grazie, Presidente. Il nostro voto è favorevole. Forza Italia, Consigliere Cozza. Grazie, Presidente. Il nostro voto è favorevole. Partito Democratico, Consigliere Apperego, Roberta. No, intervengo io. Ribadendo quello che è il concetto del mio intervento, la relazione, ripeto, che è stata presentata questa sera dall'amministrazione comunale da parte del SUE, richiama la relazione allegata alla deribera del maggio 2017. E lì c'è dentro tutto. Lo rileggo, per completezze, perché rimanga agli atti. C'è questo passaggio, lo leggerò tutto a questo punto. Dice, con tale relazione, la società Bad & Best e cinematografiche estense hanno riconosciuto una maggiore SLP pari a 433 metri quadri, invece di 1.270, come determinato dal servizio. In seguito all'esame delle osservazioni avanzate dagli interessati, oltre agli approfondimenti normativi, oltre agli approfondimenti normativi, vista anche l'ultima legge regionale 10 marzo 2017, numero 7, è stato possibile accogliere parzialmente il metodo di quantificazione dell'SLP complessiva dell'albergo. Si precisa che con nota del 15 marzo 2017, con tanto di protocollo, è stata trasmessa agli interessati la determinazione rivista dallo scrivente servizio dell'SLP, complessivamente contestata sulla base delle risultanze istruttorie che in seguito all'incontro presso il Comune di Sesto dell'11 aprile 2017 hanno portato alla definitiva quantificazione come riassunto nella tabella sottostante, eccetera, eccetera, eccetera. L'accordo quindi di massima c'era. C'era però la volontà politica, sta proprio in questo, nell'imporre poi all'operatore un atto conseguente, se no si fa altro. Grazie consigliera Chittò. Sesto nel cuore, consigliere Valsecchi. Grazie Presidente. Ne ringraziare anche i cittadini che ci hanno seguito fino a quest'ora. Confermo che il voto dell'Ista Sesto nel cuore è favorevole. Grazie. Bene, grazie. Passiamo alla votazione della delibera. Apro la votazione. Chiudo la votazione. Consigliera Iosa. Favorevole, grazie. Consigliore Leo. Astenuto. Grazie. Con 14 voti favorevoli e 7 astenuti, la deliberazione è approvata. Si passa l'immediato eseguito di te. Apro la votazione. Chiudo la votazione. Consigliera Iosa. Favorevole. Consigliere Leo. Scusa. Astenuto. 16 voti favorevoli e astenuti 5. Viene data l'immediata eseguibilità. Consiglieri, pregano. Il Consiglio non è ancora terminato. Allora, al punto 32 della delibera, andiamo per l'approvazione dei verbali della seduta ai consiglieri giorni 28-11-2017. Apro la votazione. Aspetta, aspetta, lascia l'attenzione. Sono i verbali del 28-11. 12 più 1. 12 più 1. 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 13. C'è, c'è. Il numero regale c'è. Vai, vai, avanti. Allora. Apro la votazione. No. Ma devi chiudere, Gianni. Chiudo la votazione. Però, cazzo, ragazzi. Questi hanno rotto il foglio. Vai, vai, vai. E' chiusa la votazione. Aiosa. Favorevole, grazie. Con 13 voti favorevoli e 2 voti astenuti sono approvati i verbali delle sedute del 28-11-2017-31. Bene, grazie. Sono le 4.05 e il Consiglio chiude. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Grazie.